Benvenuti a una nuova live, oggi con un ospite, potemi abbassare un po', oggi con noi c'è un ospite che è stato anche un nostro spettatore e sostenitore nel passato, che spero possa arrivare presto su Twitch anche lui, si chiama Stefano Rossello, in arte Rustblade, anzi in chat Rustblade, lui è il fondatore di Rustblade Records, che cos'è Rustblade Records? Ve lo spiego tra poco, prima lo presento, poi vi saluto in chat e vi ringrazio per il vostro sostegno. Allora, fatemi abbassare, ecco a voi Stefano Rossello, ciao Stefano! Ciao a tutti! Grande! Ciao a tutti, ciao Gonzo! Grande, benvenuto sul canale, finalmente, sono contento di averti qua! Anch'io sono felice di essere qua con te! Allora, intanto permettimi un attimo di salutare chi è arrivato in chat, grazie mille per essere qua, ciao Giorgio, buonasera, io volevo arrugginire la lama da lei, mi ha scritto, e perché in effetti Rustblade significa lama arrugginita, giusto? Sì, esattamente sì. Ringrazio Vito per i 100 bit, Giorgio per i 100 bit, e anche Iliose per i 100 bit, grazie mille ragazzi, grazie che è bello iniziare subito con un supporto di questo tipo. Prima di tutto sei un fan dell'horror? Sì, assolutamente sì. Prima, 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 prima proprio di tutto? Prima di Rustblade, ok, ok. Assolutamente. Assolutamente. In tenera età, in tenera età. Poi, seconda cosa importante, sei un musicista? Sì. Nel senso che hai, diciamo, imparato a suonare un po' così per strada, oppure hai anche studiato scuole specifiche, oppure sei in musica elettronica, fai, no? Eh no, allora, ho iniziato con la chitarra, e... Una chitarra e uno spinello, diciamo. Come la canzone, cos'era? La canzone di Elio. Allora, ti spiego, io volevo fare come quelli che nella spiaggia che cantavano, ed erano sempre pieni di... Vuole viciulare, diciamo la verità. Esatto. No, non è vero. No, in realtà io ero un fan dei Cure, e volevo imparare a suonare i loro brani, e... Ah beh, ma allora, cazzo, andiamo d'accordissimo, io adoro i Cure. Tra l'altro i Cure migliori, no? Io li considero quelli vecchi, di pornografi, cioè a me piacciono quelli che... Più punk, no? Più underground. La triologia, la triologia del Dark, quindi 70 Second Fade Pornography, quella... Eh sì, sì, no, fantastico. Me ne vado a male quando li ascolto, eh. Però poi, secondo me, loro sono riusciti a mettere insieme Pop, Dark e Alternativo in una maniera geniale. Come che si chiama? Picture of You? Quella è una canzone che io... Forse è una delle mie canzoni preferite nella vita, no? Ah sì, quella di Disintegration, sì. Mamma mia, che bella, che bella. Intanto do il benvenuto anche a Andraste, grazie mille. Grazie mille. Ah, la cosa bella della chitarra, te lo dico da persona che suonava la chitarra e poi ha smesso perché non era capace. Che quando inizia a fare i primi giri, gli accordi così, pensi, cazzo, io ho fatto questa cosa, cioè, ho fatto uscire un suono dignitoso da... Cioè, sembra quasi di avere una bacchetta magica e con un po' di sforzo, un po' di fatica, cazzo, quando escono i primi accordi puliti, ti senti di aver creato qualcosa di meraviglioso. In realtà stai facendo il giro di Do, cioè, stai facendo una cosa semplice, però quando sei piccolino è una sensazione emozionante, no? E tra l'altro nel giro di Do ci stanno un casino di canzoni, tipo... Infatti poi ho fatto un gruppo punk e ci ho fatto di tutto. Però il cielo in una stanza è in giro di Do, per esempio. Ah, ok, ok. Poi dopo, diciamo, sei diventato un musicista di elettronica, mi sembra aver capito. È stata strana la cosa, perché avevo questo gruppo che poi si è sviluppato, si chiamava Notturno Volgare, poi si è diventato Mayon Parasite. Facevo cover dei cure, poi abbiamo cominciato a scrivere i pezzi nostri e quando hai cominciato a scrivere i pezzi nostri è cominciato a diventare un problema col gruppo, nel senso che qua in Italia non tutti hanno la cultura di fare i pezzi propri, nel senso che entri in un sistema compositivo molto chiuso per alcune persone. In realtà per me la composizione è completamente l'opposto, deve essere libera, devi fare quel cazzo che ti va di fare, perché comunque è una forma d'arte e non devi avere tutte queste microstrutture. Certo, diciamo che poi ci sono due fasi, no? Cioè, se io disegno per i cazzi miei, io sono un disegnatore, io faccio quello che voglio. Chiaro che poi se mi devo relazionare a un mercato, allora entrano tutti dei discorsi, che sono i discorsi anche interessantissimi che fa Enrico Silvestrin, dove ci siamo conosciuti anche in chat, no? Mi sembra che ci siamo conosciuti lì. Beh, io devo ringraziare Enrico perché sono entrato prima nella chat di Enrico Silvestrin, da lì ho conosciuto te. Sì, sì, no, infatti è stato bello perché ci si è scovati in un ambito che interessa anche a me. Dicevo, Enrico è invece una persona molto, diciamo, competente in quello che è l'ambito anche proprio di come relazionarsi a un mercato, no? Cioè, diciamo che lui è, credo, almeno questa è la mia opinione, sei d'accordo su questo? Cioè, i suoi consigli, la sua visione è più legata a come arrivare, no? Come arrivare e soprattutto come arrivare fuori da quello che è la cultura italiana, no? Beh, lui deve capire che ha un passato, ha iniziato dall'estero. Tu non li senti ma ci sono degli zombie presi proprio da Down of the Dead che stanno arrivando. E' il mio alert per un ride, meraviglioso ride che ho ricevuto adesso da Loop Genetico. Grazie mille, sono degli streamer. Grazie mille ragazzi, benvenuti a tutti i follower di Loop Genetico. Io sono il Goins, questo è un canale di cinema horror e con me oggi c'è Stefano che sta raccontando un po' chi è, un musicista, e ha creato una bellissima realtà che è Rasplay Records che vi faccio vedere al volo. Stampa, produce, stampa, colonna e sonore di film horror, questa meraviglia. Me la sono comprata io, poi vi racconterò tutta la storia. Ebbene sì. Se vi va di rimanere con noi, oggi parliamo di cinema horror, soprattutto di cinema horror italiano penso, però vabbè parleremo anche di altro e di colonna e sonore. E poi si chiacchiera, si ride, si scherza. Benvenuti, grazie mille Loop Genetico. Grazie, fantastico. Bello iniziare una live con un ride, grazie mille. Dicevamo, la musica, ok, quindi diciamo, sei passato alla musica elettronica un po', no? Sei anche più autonomo con la musica elettronica, in un certo senso. Diciamo che la voglia, allora, un insieme di cose, nel senso, la prima era che mi volevo staccare da questo gruppo che un po' mi succhiava il sangue, nel senso che volevo essere libero di comporre cose mie da solo e in secondo luogo uno dei motivi che mi ha spinto proprio a poi a farlo seriamente è stato il concerto degli Skinny Papi a Dresda. Sono andato a vedere la riunione degli Skinny Papi, che è un gruppo che fa musica industriale, e lì ho detto, voglio farlo anch'io, queste cose qua, e mi sono messo uno sposto. Ciao Memau, ciao Mirko, scusami ogni tanto, tu fai finta che io non ci sia. Ciao a tutti. E lì ho iniziato a imparare un po' la musica elettronica in generale, proprio rudimentalmente, senza andare a scuola. Certo. E se la cosa si è sviluppata, allora io facevo musica industriale, non so se conoscete la musica industria, però la musica industria è quella musica un po' ostica, non è così facile. Quelli che non la conoscono la sentono come non musica, faccio la battuta chiaramente, un po' difficile, è qualcosa di molto cerebrale, bisogna avvicinarsi in modo molto ragionato, non è la musica che mi metto su mentre faccio la doccia, però di pari passo a questo, io avevo un negozio di dischi, cioè io avevo fondato un negozio di dischi nel 98. Dove l'hai aperto questo negozio? E come si chiamava? Legnano? Legnago, Legnago. Legnago, e si chiamava? Allora, Arcadia. Arcadia, così voglio fare un po' di storie anche local. Ciao Avonidis, benvenuto. Ciao a tutti. Che figata il negozio, io ho sempre avuto questo pallino del negozio, poi il mio sogno è il negozio horror, come ce n'è uno che segue un americano, si chiama Nightmare Toys, un americano gigantesco. Il mio sogno è il negozio tutto di roba horror, musica, film, però non credo che siano i tempi, cosa ne dici tu che hai avuto un negozio? Allora, io ho avuto il negozio, intanto ho iniziato più o meno nel 98, perché ho praticamente preso in gestione un altro negozio che stava per chiudere. Avevo 22 anni, 21-22 anni, quindi avevo aperto un negozio in quell'età lì. Eh, molto presso, dovevi imparare tutto, anche del fare il negoziante, diciamo. Esatto, è andato tutto bene. La cosa più strana che ti è capitata è il negozio, tipo, che ne so, un pazzo che entra, una, una. Tantissimi, tantissimi. No, ma il top è stato quella volta che Giovanotti fece un disco, perché avevo anche quelle cose lì, non avevo solo... Commerciali, eh, certo, Bisogna Campà. Tutto avevo io, anche Festival Bar, tutte queste cose. No, entrò questa ragazza e mi disse, voglio il cd di Giovanotti. Ok, gli prese il cd, cioè, le lo consegnai e lei mi disse, eh, ma io volevo il sapore alla vaniglia. In che senso? Perché Giovanotti aveva messo l'essenza del profumo sul cd. Oh, madonna. Aspetta, e io gli dissi, scusa, scusa, se vuoi ho la stracciatella, il... La gelateria, praticamente. Gli ho detto, ma non gli ho detto in cattiva maniera, però gli ho detto, vai in un altro negozio, magari lo trovi, eh, il gusto che ti piace. Guarda, Andrassi dice che sarebbe già la mia prima cliente se aprissi un negozio di Robor, il problema è che tu sei lontana, quindi io non ci credo che saresti la prima. Benvenuto anche a Thomas, il mio moderatore, benvenuto. Ciao Thomas, ciao Vittorio, ciao Vittorio. Allora, partono subito le domande di musica e io te le faccio, però te ne faccio una. Prima parliamo di... te ne faccio una perché vabbè, ormai Awanidis l'ha fatta. Poi parliamo subito di Rasplay Records perché voglio comunque dare spazio a questa bellissima realtà. Awanidis dice cosa ne pensi dei ministri? Allora, non i ministri italiani, eh, i ministri... Eh, ok, ok. Eh, beh, io li adoro, vengo da quella realtà, diciamo. Skinny Puppy, Ministry, Nine Inch Nails, Troubling Crystal, Cabaret Voltaire, tutta quella... Qualcuno qua sta cercando di vedere se ti assomiglia un po', secondo me il tentativo è quello, eh. Così decidono se gli stai simpatico o antipatico. Comunque, no, allora, vi invito, non adesso, magari adesso se avete domande su Rasblade, sull'attività di Stefano, poi dopo facciamo anche chiacchiere più in generale sul cinema e sulla musica. Allora, io faccio vedere velocemente il popò di roba che tu mi hai mandato. Secondo me hai fatto male, perché io adesso, tra l'altro, ho avuto tempo di ascoltare... Guarda, tu hai prodotto, con la tua, come si chiama, una casa di distribuzione di musica, come si dice? No, no, casa di produzione, produco proprio... Tu produci e distribuisci, tu non hai cose che non hai prodotto tu. No. Solo cose che produci tu le distribuisci tu, chiaramente. Allora, hai anche un fumetto, parto dalla cosa più anomala del tuo... Hai fatto anche un fumetto su Demony, il film. Ovviamente mi hai mandato dei CD meravigliosi. Io avevo perso il gusto per i CD. Eh, ma te lo faccio tornare io. Cazzo, ma l'hai fatto... Ma no, ma mi è bastato vedere queste edizioni. Tra l'altro ha perso tantissimo il cartoncino rispetto alla plastica. Non che siano brutti di plastica, ma questi sono Demony 2, Demony 1, Dawn of the Dead, meraviglia. E Suspiria non ne parliamo, non ne parliamo, perché veramente... Mi hai fatto veramente tornare... Da questo punto di vista, sul petticismo del collezionista, devo dire che mi sa che la sai lunga, eh? Sì. Un'altra cosa anomala che hai fatto e si spera che non sia così anomala per il futuro è un film, cioè un film documentario su Zio Tibia, che è già in sold out ormai. Cioè, in sold out prima ancora che lo mettessi fuori praticamente. Poi mi hai mandato dei vinili, adesso li faccio vedere velocemente. Opera, una collection di Goblin fantastica, perché ci sono le più famose, no, diciamo. E poi il tuo disco del tuo gruppo, Tibia. Uno dei miei progetti, che tra l'altro, allacciandoci al discorso di prima... Finisco, finisco. Trio Infernale, che è il mio morricone, opera. Finisco, finisco col dire l'unica cosa che ho ascoltato dall'inizio alla fine è solo opera e Trio Infernale. Perché sai che sei benissimo, che ho pochissimo tempo. Però devo dirti che è piaciuto molto a mio figlio, che l'ho costretto a sentirli. Gli sono piaciuti tutti e due, soprattutto opera. Era molto incuriosito dalla canzone iniziale, quella... Come si chiama il tipo di canto? Ah, quella... La title track, diciamo. Sì, sì, esatto. Con questo canto quasi da opera, no? Sì. Era molto incuriosito dalla bravura della cantante. Che poi, tra l'altro, quando ci sentivamo, ti ho detto, guardatelo il film, riguardatelo. Poi ne parliamo dopo. Guarda, io li devo rivedere molti. I gatto... Quelli della trilogia li ho già rivisti qualche... Poco fa, insomma. Però me ne mancano alcuni da rivedere, in effetti. Opera, non lo vedevo da quando praticamente era uscito. Quindi, devo dire che con gli anni, non so per quale ragione, mi è sembrato sempre meno bello. Sempre meno importante. Poi lo vado a guardare e dico, ma io sono pazzo. Cioè, questo è un capolavoro assoluto. Cioè, è un film eccezionale. Allora, io... Io vidi quel film che avevo 11 o 12 anni. Quando lo trasmissero in televisione, perché al cinema, un film del genere, non riuscivo ad andarlo a vedere. Insomma, Dario Argento io sono riuscito ad andarlo a vedere quando ero già... Certo. Praticamente, insomma, dai 18 in su. Anche perché quei film lì, non è che all'epoca li facessero vedere tutti. Mi sa che era vietato minore di 18 all'epoca. opera. Aveva la censura di evitare... Eh, ma ci credo. Gli apre la trachea qua con la forbice. Poi ce n'è di roba potente. Però, ecco, io vidi quel film che mio padre mi mandò a letto. Io non so... Mentre lo guardavamo, lo registravamo. Cioè, queste cose qua succedevano. Insomma, io ne ho guardato un pezzo e poi ho finito di guardarlo il giorno dopo e, insomma, la cosa mi spaventò parecchio perché lui c'ha il cappuccio, insomma, ci sono delle scene gore non da poco, diciamo, nel film, insomma. Però mi piaceva tutto di quel film. La musica, le inquadrature, tutte queste cose qua che poi negli anni ho apprezzato sempre di più. Cioè, basta pensare... Adesso ti dico un aneddoto su opera che Dario Argento spese quasi, non dico metà del budget, però siamo lì per fare la scena, quella della soggettiva del corvo che va dentro, che attacca le persone. Sì, infatti mi viene ancora da chiedermi come l'ha fatta perché vista così non mi viene un'intuizione subito. Oggi l'avrebbero fatta con dei droni. Esatto. Invece, all'epoca, costruirono... Io ti consiglio di vedere un qualche speciale. Un backstage. Credo che se hai il DVD ci sia. Io l'ho visto, che poi, tra l'altro, su quelle cose del backstage trovi la versione americana, quella italiana, con il CDS. fecero costruire una specie di gru all'interno del teatro che girava con questa camera che praticamente andava... Penzolava, no? Faceva come un pendolo. E spese un casino di soldi, ma di una scena che dura quanto? 30 secondi? Però è una scena potente. Sì, però se tu pensi a... a parte i budget diversi dell'epoca per quanto riguarda... Perché comunque Dario Argento mi diceva Claudio che quando uscivano i film... Claudio Simonetti. Quando uscivano i film era sempre un evento, diciamo. All'epoca, maggior ragione, perché insomma negli anni 80 lui era ancora abbastanza tosto. Insomma, opera andò anche molto bene nei cinema. e a parte questo lui, cioè renditi conto che spese un casino di soldi solo per quei 30 secondi. Quindi cose che adesso non so se qualche regista cioè si impunta di fare tipo una cosa del genere che spende tutti quei soldi. Certo. Io approfitto, scusami, perché mi sono anche... Scusa, adesso ovviamente i mezzi sono quelli che sono. Avevo anche il trailer, penso, no? Opera. Dobbiamo andare il trailer perché mi piacerebbe anche che si entrasse un po' nel mood con le immagini. Adesso qua c'è, vabbè, il logo. Però... Vediamo se va. Aspetta perché... Ovviamente sta andando a scatti. Sì, va abbastanza a scatti. Quindi direi che la questione trailer la possiamo anche abbandonare. Sì, va a scatti. Niente. chiedo umilmente scusa agli sbettatori. L'altra volta avevo provato a far vedere il trailer e è venuto tutto a scatti. Mi spiace perché secondo me vedere anche un po' come erano questi film ti riporta alla mente quanto erano geniali. Tra l'altro in opera c'è questa scena dello spioncino che io non so se... Fantastico. Io non so se ha dei precedenti perché è veramente geniale ed è... non credo forse qualcosa di vagamenti simile. Io trovo che sia un'idea incredibile che poi è stata riutilizzata un miliardo di volte forse. Gli altri registi si sono beccati del genio per una cosa che in realtà ha inventato lui. No, io vi consiglio veramente di guardare gli extra e di far vedere anche quella scena che praticamente la pallottola è grande così. Cioè hanno costruito una specie di cinema... Sì, l'hanno fatta gigante perché era più semplice fare la ripresa, certo. perché non potevano avere una telecamera piccola da mettere in un piccolo... Quindi hanno ricreato in grande questa serratura questo... Bellissimo. No, ma poi anche l'uso di questo rallent di slow motion che c'è ma meraviglioso, no? L'altro giorno si parlava del fatto che Zack Snyder usa gli slow motion in modo cafone e inflazionatissimo però una cosa è uno strumento cinematografico se lo usi con classe ha un effetto incredibile. Ti approfitto per leggere un paio di commenti dimmi. Ti interrompo perché ho visto una ragazza che io sto seguendo anch'io la chat e chiedeva dove poteva acquistare... Sì, è un maschio un maschio a Juanidis Ah, ok. Niente, no al momento è sold out di DVD però ci stiamo pensando a fare una... Di Zio Tibia di Zio Tibia, sì. È sold out ma troverete un modo perché a quanto pare la richiesta c'è. Esatto. Io tra l'altro l'ho visto ovviamente ho intenzione di fare una recensione o comunque un articolo o qualcosa però ti spoilerò che mi sono emozionato cioè proprio... Uguale. Beh, non... Ci sto ancora riflettendo su quelli che sono i meccanismi legati a Zio Tibia però... Cavolo è andato è andato a prendere e mettersi in un punto in cui le persone avevano bisogno di quello. Sì, assolutamente perché guarda io la vedo così noi venevamo da bim bum bam da sti pupazzi un po' un po' sciocconi diciamo. Sì, per i bambini diciamo. Esatto. Zio Tibia invece faceva una cosa completamente diversa cioè era già un periodo in cui la Film Invest aveva bisogno di concretizzare alcuni programmi infatti si vede nel documentario e Zio Tibia è uscito proprio nel momento giusto soprattutto nell'esplosione dell'horror dei fini anni 80 anni 90 che tanti film non si vedevano erano censurati insomma si cominciava un po' a aprire c'era all'epoca c'era anche adesso un po' meno il problema proprio della censura dei film violenti i film che fanno diventare la gente assassina cioè si attribuiva a questi film anche la colpa magari di un omicidio o di una roba no? Sì, sì assolutamente però l'ironia di Zio Tibia in Dimenticato cioè come spezzava poi lui come presentava i film era bello perché ti introduceva ti faceva ecco una cosa che mi hai fatto venire in mente tu dicendo questa cosa penso che il fatto che noi fossimo bambini alla fine ci aiutava a avvicinarci a quel mondo così spaventoso che però ci attraeva proprio con la giocosità di Zio Tibia che era simpaticissimo cioè era proprio uno zio in un certo senso era proprio lo zio è il classico zio che nelle famiglie io non ce l'ho avuto però ne ho visti il classico zio quello che tra virgolette si fa le canne e ti capisce no cioè quello che ha che ne so quello che suonava la chitarra e c'è i dischi di Rolling Stone e ti capisce no e non è magari così ecco Zio Tibia era quello zio che arrivava in famiglia e col suo essere centrico e strano tu lo adoravi e ti introduceva poi a film anche anche tosti cioè non c'era solo la casa no c'era anche il Razer dico la casa perché la casa è un film più horror comedy però presentavano anche film belli tosti pensa che io la vidi proprio esattamente la prima trasmissione di Zio Tibia perché avevo le guide tv e c'era era la prima volta che facevano la trasmissione di Zio Tibia e il primo in assoluto fu Di Omen mi pare il presagio sì bellissimo e il secondo film fu Grano Rosso Sangue io lo registrai tutti e due Zio Tibia come pupazzo non c'era ancora c'era questa specie di lo si vede comunque credo che si trovi su youtube era una specie di sfondo digitale dove c'era lui che parlava insomma una cosa un po' trash e poi l'anno dopo iniziò con insomma Zio Tibia veramente ed era insomma divertente molto molto divertente approfitto scusa cerco di leggere anche un po' la chat così allora qui dicono conferma Vittorio che opera full film con il budget più alto di tutta la filmografia 10 miliardi di lire si vede si vede i rallenti nel film di quattro moschie di velluto grigio ricorda Vittorio la scena finale sì che è stata che però la scena finale di quattro moschie di velluto grigio per l'epoca era molto più difficile da fare perché negli anni 70 fare un slow motion così non era facile beh intanto oggi è facile mettere la telecamera a 120 frame che te ne frega io adesso non ho idea di come facessero aggirare degli slow motion forse appunto registrando più pellicola su più seco cioè mandando più veloce la pellicola non lo so comunque sì c'è tutto quello che oggi è semplicissimo all'epoca che si impuntavano per farle queste cose questa è una cosa interessante anche con l'ignoto del cioè con quel senso di ignoto io provo a farlo chissà se viene cioè ci impieghi soldi denaro e poi rischi pure c'era tanto rischio nel cinema no? che poi per me Dario Argento la cosa che si sempre si trascura di Dario Argento è il fatto della sua impuntarsi sul no sense a volte quindi tanti si impuntano sulla storia quando in realtà lui vuole portarti completamente se avete visto Inferno è assurdo come film cioè non è un film è un film completamente fuori di testa ma è giusto che sia così perché il cinema è anche finzione è cinema di genere tanto vorrei mettere questo prefisso poi io ti dico io vedo il cinema di Dario Argento come un cinema onirico nel senso che anche quello più più dritto poi a un certo punto diventa un po' folle diventa proprio folle diventa quasi come gli incubi infatti in tutte le interviste Dario Argento parla di incubi i suoi incubi eccetera non è forse sì poi è diventata anche una frase un po' per levarsi dalle balle tutte le domande però è proprio il suo cinema è onirico quindi anche star lì ad appiccicarsi alla vera somiglianza delle cose mi sembra veramente assurdo forse è bello proprio perché è onirico il suo cinema c'è un'intervista adesso io ve la consiglio di trovarla dove lui parla di Profondo Rosso e già nell'intervista dice che lui il suo obiettivo è quello è quello di arrivare al no sense cioè al suo obiettivo alla Lynch anche un po' come Lynch solo che a Lynch non gli è un peccazzo nessuno esatto la sua idea già in Profondo Rosso si cominciava già a vedere uno stile diverso dai primi tre nel senso che aveva accelerato delle cose sperimentali dalla musica da riprese che per l'epoca erano innovative cioè non c'è niente a fare erano proprio sue perché perché Dario Argento aveva anche i mezzi per farlo nel senso che i primi tre film andarono benissimo soprattutto il primo all'estero e quindi i budget per quei film cioè aveva abbastanza carta bianca poi e la cosa bella che a me è sempre piaciuta è che poi lui ha osato cioè ha sperimentato è andato sempre più in su perché dopo da Profondo Rosso Suspiria un altro film assurdo poi Inferno ha esagerato ancora di più e poi è ritornato ancora a fare con tenebre fenomena eccetera anche fenomeno assurdo cioè se tu ci pensi ci sono delle cose che sono completamente fantasiose nei suoi film ma perché perché lui in realtà secondo me è molto vicino a quello che è la fiaba i film vecchi eccetera eccetera capisci molto legato a quel cinema se pensi a opera lui ovviamente citazione del fantasma dell'opera però se trovi qualche intervista vedi che lui parla di che il film che l'ha spaventato di più in assoluto fu il fantasma dell'opera quindi cioè lui aveva i suoi input forti capito cinematografici e quindi quando sai quando metti del personale nel tuo cinema ovviamente c'è chi gli piace magari ti riconosci in questo che dice Vittorio per me Inferno è infatti un vero manifesto cinematografico assolutamente allora torno un attimo sulla tua attività perché ci tengo a parlarne anche se capisco che tu sei un amante del cinema horror io pure e tutti gli altri e quindi finiamo sempre per parlare di quello però è giusto anche è giusto anche far vedere cercando di far vedere scusa un attimo barra ok ok ho fatto una capolata tanto saluto tutti quelli che stanno in chat che stanno che stanno partecipando allora no volevo far vedere un attimo il sito così sì questo è il tuo sito dove vendi e diciamo che è il tuo nuovo negozio nel senso che il negozio fisico l'hai abbandonato esattamente perché cambiano i tempi giustamente e vi faccio vedere una carrellata di ciò che fa Stefano perché veramente c'è da sbavare tra l'altro lo ridico sembra una ruffianata ma lo dico veramente da persona che comunque compra prodotti io sono molto da mercatini però quando vedo dei buoni prezzi per me un vinile a 25 euro è un prezzo veramente molto onesto cioè hai cercato sicuramente secondo me di stare di avvicinarti al pubblico perché se se avessi voluto avresti potuto fare dei prezzi come fanno altri molto cioè almeno dai 35 euro in su io vedo che l'edizione semplice comunque costa non ha senso secondo me nel senso che una persona che li produce che li stampa sa esattamente anche quello che gli ha pagati e cerca comunque di essere onesto io sono sempre stato onesto nei prezzi poi ovviamente con le cose ti faccio l'esempio di Trio Infernale comunque cioè vinile colorato ok non è un'edizione super però 22 euro e 90 insomma ragazzi io scartabello un po' discogs eccetera e quindi veramente ci tengo a dire che si vede che comunque è come se tu guardassi anche un po' a chi deve comprare non non solo al business mi rendo conto che bisogna guardare anche al business perché poi ci sono i momenti in cui va bene e i momenti in cui va meno bene quindi bisogna che si può però comunque questi sono vabbè sono i prodotti come lì ad esempio quel eduard caspel motion capture motion capture mio progetto ambient eduard caspel è il cantante del leggendario pin dodge non so se li conoscete ecco non c'è ci sono solo colonne sonore ci sono anche gruppi alternativi ho prodotto l'idea lancia ho prodotto young gods cioè ho prodotto anche artisti underground insomma di un certo livello di un certo nome ecco tra l'altro etichetta italiana che non sembra italiana nel senso che tanti entrano nel sito e mi scrivono in inglese poi certo ma non è italiana secondo cioè non sembra italiana neanche poi in quello che proponi nel senso che come lo proponi quindi mi piace tantissimo adesso faccio vedere velocemente ci sono ci sono anche tanti box limited box quella è la nostra specialità guarda ti posso far vedere ma a me piace il fatto che tu hai creato dei prodotti sia per chi ha diciamo le tasche più più piene ma anche per chi comunque cioè quindi c'è un po' ci sono prodotti belli cari ma che comunque hanno dentro l'ira di dio tipo tipo demoni con la mask cioè demon ecco ecco qua c'è ancora disponibile quella con la maschera no non so se c'è ancora una forse sold out comunque l'edizione di demoni la colonna sonora aveva c'era anche la versione con la maschera mi sembra mi sembra praticamente sei sulla home poi se tu vai sul catalogo e guardi limited box puoi trovare poi tutte le edizioni limitate che abbiamo fatto ne abbiamo fatte veramente tante pensa che di profondo rosso ne abbiamo fatto un box con il pugnale dentro bello eh no ma infatti infatti poi vabbè questa faccio vedere questa poi torniamo all'altra la schermata dove ci siano i due faccio vedere giusto questa perché veramente ragazzi cioè è meraviglioso questo è meraviglioso è un box fa vedere quanto è spesso così ingolosiamo vedi il box con dentro questo qua è quello massimo diciamo con dentro tutto maglietta disco cd poster esatto il poster apribile che è quello di quello che vedi con la ragazza che urla si apre che c'è anche la locandina è quel poster di suspiria non me lo ricordo questo allora io faccio sempre delle edizioni se tu guardi anche il gatto nove cose che c'ho anche qua adesso faccio vedere pensando molto all'estero nel senso cercando di rifare le locandine quelle americane cioè io voglio fare un prodotto internazionale non perché snobbo la stampa o la cosa italiana ma perché il mercato di rasplay del maggiore ce l'ho negli Stati Uniti questa è la cosa più strana sono entichette italiane però io lavoro molto molto di più negli Stati Uniti io non sono un imprenditore però sono dell'idea che l'Italia dovrebbe fare tutto tutta l'Italia dovrebbe fare come fai tu perché noi compriamo da loro la qualunque loro da noi non comprano un cazzo quindi dobbiamo ti faccio vedere un'altra cosa poi sai io credo che una persona americana che compra una colonna sonora dei Goblin di un film di dare argento prende il disco e poi va dai suoi amici e dice e in più l'etichetta è italiana perché fa figo perché quella persona apprezza il nostro cinema apprezza il nostro paese apprezza il prodotto italiano quindi maggior ragione parlando di cinema noi non abbiamo fatto solo horror ma abbiamo fatto anche due film di Fellini come colonna sonora abbiamo fatto si l'ho visto infatti Roma e Satirico ho entrato rifacendo completamente la copertina adesso vediamo se vi faccio vedere non si vede benissimo perché c'è riflesso aspetta un attimo che mi tolgo così si vede questo e questo però c'è riflesso ecco qua si vede meglio i disegni li ha fatti li ha fatti Lola Ariaghi della Sergio Bonelli quindi io comunque cerco artisti italiani per fare queste cose la maschera l'ha fatta Marina Lodi ovviamente in plastica no? tipo in resina in resina ma è anche indossabile cioè ci sono anche i buchini per mettere no i buchini no li puoi fare li puoi fare però si si no perché per Halloween tra poco insomma vabbè poi vabbè ci sono state tante cose anche un tributo a John Carpenter che tu hai sì no quello ci tengo a farlo vedere io perché io sono io sono un T-Rex cioè sono proprio tirchio dentro cioè nel senso che non sono attaccato al denaro però non mi piace spendere a caso quindi questo disco qua che dove ci sono è interessante oltre al fatto che lo guardate esteticamente è una meraviglia poi vi faccio vedere anche il vinile perché è blu è lavander è un lavander sì io dico che è blu perché col riflesso del monitor mi viene blu però in realtà si cambia è un po' cangiante in qualche maniera è bellissimo me lo sono ascoltato decine di volte su Spotify anzi ascoltatelo perché poi la decima volta vi è invogli di comprarvelo e lo compro io consiglio a tutti di ascoltarli su Spotify le nostre produzioni poi se vi piacciono tanto magari mi emozionano averlo in supporto fisico non è una brutta cosa ecco e poi c'è tutta sta polemica sul supporto fisico anche vedo sugli altri canali in realtà cioè chi ha voglia di avere l'oggetto in casa credo che sia una bellissima cosa sì esatto diciamo che a noi non frega più di tanto questa polemica sulla qualità perché lascia un po' il tempo che trova lo capisco persino io che non sono un tecnico ma che se tu hai il giradischi e poi esci con delle casse schifose o con cioè o hai veramente un impianto incredibile oppure comunque una cosa vale l'altra cioè nel senso diciamo che il vinile è un supporto nostalgico perché comunque il digitale ovviamente ha una qualità superiore però su questo ci sono varie correnti di pensiero la mia è che avere un vinile con la copertina grande se ti piace un artista ti piace avere l'oggetto in vinile perché comunque il CD è piccolino la fisicità del vinile indubbiamente affascinante e poi un supporto che non è mai morto perché c'è il primo supporto non è ancora morto questo supporto se ci pensi quindi devo dire che piace guarda qualcuno dice qualcuno dice aspetta cosa che hai scritto su bootcamp ho visto qualcuno che citava adesso non mi aggiorna la chat un po' di amore anche per bandcamp scusa bandcamp dove tu hai tra l'altro il profilo allora io faccio una cosa prima che mi dimentichi scusate devo andare ad aprire a mio figlio arrivo metto in pausa un attimo scusate un attimo Scusate, 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 allora, perdonatemi ragazzi perdonatemi, ho dovuto andare alla porta, se no mio figlio non entrava più in casa, eccoci qua, rieccoci qua, scusatemi, scusatemi, il bello della diretta, perdonami, ti avevo bloccato un discorso, mi senti? Sì, sì, ti sento. Ok, perdonatemi, ho avuto un momento di cose da fare in casa, adesso siamo liberi. Dicevo, tu hai un Bandcamp, scusa, non so perché continuo di averlo sbagliato, l'ha già postato Giorgio, grazie mille Giorgio. Grazie Giorgio. Lì si possono ascoltare tutte le tue produzioni? Parte, parte, non tutte, perché alcune coi diritti non sono riuscito a... Perché alcune hanno anche cose, sono coproduzione, giusto? No, nei contratti era escluso il digitale, diciamo, quindi... Ah, ok, ok. Metto anche il link al tuo sito, che è veramente un giretto, secondo me, d'obbligo. Vi consiglio anche di guardare un po' tutto, non c'è solo colonne sonore, ci sono anche molti artisti, c'è la pagina artisti, così magari fate un salto per scoprire nuovi gruppi, nuove musiche. Tu hai un progetto tuo? No, è più di un progetto tuo. Eh sì, ne ho quattro. Allora, l'uscita più recente è questa, giusto? Che è Tibia Wasteland, dove dentro ci sono delle musiche, perdona l'ignoranza, vabbè, la cosa l'ho riconosciuto, però ci sono anche altri temi, no? O ci sono anche canzoni originali proprio senza... No, sono tutte canzoni originali tranne la cover della cosa. Ah, ok, ok. Infatti non avevo riconosciuto nessun altro film, vuol dire, dicevo, ma è strano. Ed è questo disco l'ho composto con un amico americano di Los Angeles che si chiama David Christian, che quando è venuto qua in vacanza abbiamo registrato insieme e poi abbiamo prodotto il disco, che poi tra l'altro questa musica c'è nel DVD di Zio Tibia. Così, se avete il DVD potete sentire anche la musica anche lì, insomma. Ah, c'è il disco e dentro il DVD, quindi è ascoltabile. No, no, non è ascoltabile. Abbiamo fatto la musica, la musica del documentario, scusami. Ah, la musica del documentario è la musica. Ah, ok, no, no, pensavo... Ho capito male. Ti ricordi il videogioco Wipeout? Sì, 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 che c'aveva la... È stato forse il primo caso di videogioco PlayStation che era anche ascoltabile come CD. Tra l'altro con dei grandissimi pezzi, grandissima musica. Allora, io adesso, beh, abbiamo parlato un po' del tuo progetto, per cui ovviamente faccio il tifo. Beh, scusami, c'è anche Bantier, che è una mia band industrial proprio, che al ragazzo che gli piacciono i ministri ti consiglio di ascoltarlo, magari ti piacciono, che è lì dove canto io. Ah, tu canti? Sì, canto e suono le chitarre, le tastiere. Quindi andate su Bantier, ascoltatevi The Age of Discord, comunque c'è anche su Bandcamp da ascoltare. E poi c'è Motion Capture, che è l'altro mio progetto alla Tangerine Dream, per farvi capire lo stile. Insomma, scoprite... Io ovviamente... È conflitto di interessi, però all'interno dell'etichetta ci sono tanti progetti, anche miei, di musica originale, diciamo. Non necessariamente colonna sonore. Certo, no, beh, ma hai creato una situazione molto bella, in cui riesci a unire diverse cose che ti appassionano, in cui riesci, in cui sei... Penso comunque, adesso io, perdonami, non sono un grande esperto di musica, però, insomma, avrai anche il tuo seguito, le tue... Diciamo che è iniziata così. È iniziata per... Allora, io ti faccio... Adesso passiamo un po' più sul personale, così chiacchieriamo anche un po'. Come... Raccontaci proprio la classica domanda, cioè, come è iniziato il tuo rapporto con l'horror? Cioè, primo film, primi film, che ti hanno, diciamo, poi messo in quella strada lì? Allora, io sono sempre stato appassionato, perché, allora, il fascino del proibito da bambino è una cosa che, almeno a me, mi attirava tantissimo. Quindi anche il porno? Anche il porno, perché no, scusa. Giustamente. Tutto quello che era comunque... Vietato. Alcol, droga, porno e horror. Certo, droga e porno horror. Esatto. Esatto. No, vabbè, sicuramente anche la fantasia del bambino nel confronto della passione dei mostri, in tutte le cose strane, che poi io mi cagavo all'osso, io non dormivo di notte. Uguale, uguale. Quella sensazione era come una droga, cioè io non riuscivo... Poi sai cos'è? Io vengo dal periodo che c'erano le videoteche, quindi quando leggevi, prendevi le riviste, leggevi qualcosa, andavi a cercare il film nella videoteca. E guardavo, io guardavo solo la copertina e mi immaginavo che film poteva essere, perché poi non lo potevo noleggiare, che era di tanti minori di tempo. Certo. Io mi ricordo che costavano 60.000 lire anche, una cosa del genere. E poi comunque c'era la registrazione, era un altro mondo secondo me. Quindi ci stava anche, per esempio, anche lo scambiarsi le cassette anche tra paesi, tra collezionisti, perché i film erano introvabili. Era un altro mondo. Diciamo che oggi come oggi, ecco, magari ti faccio la domanda, come la vedi, il discorso della pirateria, perché comunque oggi sono cambiate tutte le cose, la musica costa meno. La musica e i film... Allora, sulla musica, allora, da produttore, io ho iniziato l'etichetta nel peggior periodo da produttore, perché ho iniziato nel 2004 con l'etichetta discografica. Aveva ancora il negozio di dischi. C'era un apster. Sì, aveva ancora il negozio di dischi e sembrava una follia. Perché comunque, io poi ho chiuso il negozio per questa crisi. Però con l'etichetta continuai, 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 e arrivò il ritorno del vinile. Quindi del collezionismo fondamentalmente. Cioè, il collezionismo tiene vivo il mercato del vinile, dell'on video, dei cd, Sì, sì, sì. Perché, comunque, io sono sempre dell'idea che alcuni oggetti sono belli di avere, soprattutto se ti piacciono i contenuti, la musica, le immagini. Ci sono tante cose in un disco. C'è da dire che, se vogliamo fare un discorso un po' da complottisti, cioè se domani saltano per aria tutti i server e non c'è più internet, io e te siamo a posto, no? Sì, sì. Abbiamo film, musica, da vedere e sentire per un bel po'. Sì, sì, sì. So che c'è gente che non ha più niente, non ha il giradischi, non ha non ha lettore di niente, non ha nulla in caso. Quindi, fondamentalmente, se sparisce internet non può fare nulla, non può... Quindi noi potremmo poi a quel punto far pagare il biglietto. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, agganciandomi a questo, il periodo di maggior vendita che ho avuto io è stato durante il lockdown. Come mai, secondo te? Strano, perché si fa più uso delle piattaforme, no? No, no, sì, perché comunque la gente voleva avere... Aveva forse anche voglia di comprare qualcosa. Parliamo a livello pratico, non spendeva i soldi uscendo. In altri modi. E aveva voglia di... Poi, sai cos'è? Uno fa un po' di ricerca, era un po' più a casa. In realtà il lockdown non ha portato a cose negative, ha portato a cose positive a livello culturale, secondo me, perché molti hanno cominciato a fare delle ricerche. E devo dire che in quel periodo lì abbiamo avuto delle ottime vendite. Poi in quel periodo abbiamo prodotto un disco di Morricone, uno tra i tanti, che poi ti faccio vedere. Parliamo anche un po' di Morricone dopo che ti voglio sottilinerare alcune cose molto interessanti su di lui. E lì, insomma, mi sono reso conto, cioè, io in primi strato comprai un casino di dischi in lockdown, perché avevo voglia di ascoltare musica, cioè, non che non l'ascoltassi. Ma tu hai in casa i piatti per fare anche un DJ set? Sì. Cioè, ce li hai attaccati, quindi volendo tu ti metti anche a suonare per te? Sì. Ah, ok. Sì, ho fatto anche con qualche DJ set con Razblade. Anche in live, giusto? Quella è una cosa bella, secondo me. È una cosa molto interessante. però l'ho fatta senza giro. Io ho il problema che sono anche un po', essendo un collezionista, io i dischi non me li porto in giro, capito? Gli tengo a casa... Dovresti comprare quelli da battaglia, quelli senza copertina. Io ho comprato, io per esempio, ho comprato un inferno, senza... è un esorcista senza copertina. Ah. L'hai sentita la colonna sonora dell'esorcista? Cioè, secondo me se l'ascolti diventi veramente posseduto, perché veramente non vada malati di mente. Io ho una delle migliori per quanto riguarda il diabolico, il diavolo, secondo me, e io te lo consiglio vivamente, Gonz, vai a ascoltartela, è la colonna sonora di The Omen. Sì, non la ricordo più perché ricordo il film, ho dovuto, ho recensito l'edizione della Midnight, molto bella. E The Omen è un bel film. Poi devo dire che la saga, anche se cala, è una, vista tutta insieme, è una saga divertente, no? Sì. Cioè, vista, preso ogni singolo film, chiaramente la qualità scade piano piano, no? Più avanti. Però, diciamo, vista tutta insieme ha un super che e funziona. Certo, ma poi, vabbè, lì si parlano, si parla dei film che hanno segnato un'epoca, diciamo. Poi erano anche i primi a trattare quegli argomenti lì, no? Sì, poi l'esorcista, vabbè, in maniera, ha rotto tutto, cioè, ha fatto veramente tanto nel cinema, secondo me, del genere. è pazzesco. Diciamo di Morricone, che tra l'altro è uscito questo documentario che mi hanno detto essere molto bello. Sì, e devo ancora vederlo. E io, per via appunto delle troppe cose da recensire, l'ho proprio bypassato. Però pensavo di comprarmelo, perché secondo me è emozionante quel documentario lì. Sarà ricco di informazioni, molto... io non sono andato a vederlo, perché a me Morricone mi fa un effetto... cioè, mi commuove in una maniera... più finiva che saresti messo a piangere in sala. Fa conto che io ho live in arena di Morricone in DVD, l'avrò visto una o due volte, poi sono andato anche a vederlo in arena, dal vivo, sono riuscito anche a vederlo con la mia ragazza e quando siamo usciti dall'arena eravamo come intontiti. Io non sto scherzando, cioè, lui aveva un potere di toccare alcune cose tue emozionali che... Ma infatti poi ha reso... cioè, lui ha dato questo potere al film stesso, ai film che... Ci sono dei film che sono nel cuore delle persone, però lo sono, bisogna ammetterlo per la musica in alcuni casi. Cioè, senza quella musica non sarebbero andati così bene, secondo me. cioè, quella sinergia tra regista e compositore. Un po' come il direttore della fotografia di Suspiria e D'Argento, cioè, Suspiria non sarebbe quello che è senza quella fotografia, no? No, anche senza la musica. Io, ecco, parliamo effettivamente di cos'è una soundtrack in un horror. Eh, questo mi interessa perché poi lo dice una persona che ne sa più di me, infatti. Nel senso che per me la soundtrack può fare anche il 50% di un film in un film horror, perché faccio l'esempio, non so, di Profondo Rosso o faccio l'esempio di L'Esorcista o faccio l'esempio, non so, di tanti film dove la colonna sonora o dei temi quando entrano dentro stai in tensione perché sai che sta per accadere qualcosa ed è la solo, cioè, senza quella musica magari tu non hai quella sensazione di paura. Quindi, agganciandomi al discorso di Morricone, Morricone, noi abbiamo fatto varie edizioni cercando di far scoprire che Morricone non solo ha fatto le musiche romantiche, adesso io ti ho dato il Trinfernale che è già ancora un po' su quel versante, però la cosa più terrificante che ho prodotto di Morricone è questa qui, guarda, questa, vediamo se si vede, c'è il riflesso del coso, comunque, Drammi Gotici, Drammi Gotici che è una serie tv italiana che tra l'altro se c'è qualcuno in chat che ha le puntate o le ricerche, sì, no, perché io non sono riuscito a vederle, io so che era un po' l'American Horror Story italiano, proprio vecchio stampo, le musiche sono terrificanti, terrificanti, ma veramente terrificanti perché c'è Paola Dell'Orso che è quella che Elda Dell'Orso, scusa, la cantante, ha cantato sia C'è ora una volta il West, però in questi dischi ha cantato in una maniera spaventosa e lo stesso Morricone è molto, molto sperimentale. Io dicevo questa cosa riguardo alla musica nel cinema, no, che secondo me non è opinabile, cioè una volta che lo spieghi è ovvio. Noi nasciamo quando siamo nella pancia della mamma, quindi non vediamo nulla, iniziamo a sentire però con l'udito, il battito del cuore, la voce della mamma, del papà, al di fuori della pancia, insomma, sentiamo dei rumori, sentiamo delle cose, quindi mi pare ovvio che l'audio arrivi di più di tutto il resto. Quindi nel cinema l'audio inteso appunto come effetti audio e soundtrack sono le cose a me verrebbe da dire più importanti veramente della fotografia, dell'inquadratura del movimento di macchina, perché sì, c'è un linguaggio che racconta qualcosa, ma le emozioni più grosse arrivano dall'audio. Spesso la trasmissione la puoi seguire benissimo, se la senti bene si vede male, ma non la potrai mai seguire se si vede bene si sente male. Quindi è proprio fondamentale in assoluto. Se tu pensi a tutte le inquadrature di John Carpenter in Halloween, ok? Dove c'è Michael Myers che cammina nella strada con la musica tutta musica lì, no? alla fine. C'era quella cosa fa? Cioè, tu dici boh, ma che cazzo sta a fare? Sì, sì, è il narratore in quel momento la musica, Esattamente. Che tra l'altro John Carpenter si è ispirato ai Goblin, Claudio mi ha raccontato questo aneddoto che John Carpenter l'ha incontrato, è andato in backstage di Claudio Simonetti, Claudio Simonetti aveva suonato a Londra e... Cioè Carpenter è andato al backstage di Claudio Simonetti, ok. Tra l'altro... hai fatto bene a specificare, perché gli americani hanno rispetto degli artisti italiani, no? Sì, tantissimo. Non come il pubblico italiano che non ha rispetto di un cazzo. Pubblico italiano ha questo problema che io non ho mai capito come mai mette questo muro con l'artista e non si capisce. Quando l'artista in realtà è soprattutto estero è molto disponibile, ne ho conosciuti tanti io, quindi... E facendo i confronti i peggiori da un certo punto di vista erano gli artisti italiani, tranne ovviamente Claudio e pochi altri, però ci sono artisti italiani che veramente sono... non gli puoi dire niente, non puoi parlare, sono chiusi nel loro backstage... Guarda, Vittorio che è un grande direi fan, ma direi più ossessionato che fan di Halloween, dice ma infatti quando feci vedere la copia a lavoro di Halloween ai produttori la odiarono, mancavano le musiche. Ma tu sai cosa ha fatto John Carpet? John Carpet ha detto ok, non ci sono soldi per fare le musiche di Halloween. Cazzo faccio? Faccio io. me lo ricordo questo infatti. Ma a parte che già lui ha fatto le musiche di Distretto 3, cioè comunque lui... Anche il fratello suona, anche il fratello mi sembra che suoni faccio musica. No, il figlio. Il figlio credo. Poi non so il fratello se c'era anche il fratello. Comunque sì. Lui fece questa cosa e tra l'altro tornando al discorso di prima entrò nel backstage e disse a Claudio io ti ho rubato tutte le musiche nel senso ho cercato di copiare... Però in realtà io non ho quella sensazione lì anche se vero. Cioè secondo me ha peccato di troppa onestà intellettuale perché secondo me in realtà magari gli è servito ad aprire la mente e creare qualcosa ma poi alla fine sono così personali quelle musiche. Ma no, ma assolutamente d'accordo. Anzi John Carpet ha inventato uno stile musicale nonché noi abbiamo fatto il tributo perché per me alcune musiche John Carpet sono eterne. Sono classiche non solo nel cinema horror ma... Allora ti faccio una domanda difficile per me che più o meno è questa. Volevo chiederti perché io veramente non ne so tanto di musica. Che cosa significa la musica dei Goblin per la musica in generale? Allora, dal mio punto di vista forse i Goblin sono uno dei pochi esempi di come una musica sia completamente globale internazionale non solo è per questo che sono usciti così tanto dal dal paese diciamo sono a parte la qualità e l'innovazione e tante altre cose insomma se tu pensi anche a Suspiria stesso il Groll o quella voce che fa lui era anticipava alcune cose del metal quindi c'erano tante tante cose nuove soprattutto non avevano un'impronta italiana da canzonetta però se analizziamo poi tutto il discorso delle colonne sonore i Goblin riuscivano a essere anche un po' più colpire anche gente che ascoltava rock perché loro facevano rock Dario voleva un gruppo rock ed è riuscito a trovare com'è che hai conosciuto Simonetti per poi le collaborazioni che hai fatto e tutto diciamo che ho conosciuto prima il manager ma è stata una cosa molto strana nel senso che devo ringraziare Alex Torchia si chiama che era insomma aveva questo locale cercava dei gruppi da far suonare e mi chiese ma scusami ma tu conosci Claudio Simonetti se nemmeno no l'ho detto provo a contattarlo vediamo gli chiediamo se gli va di venire a fare una data nel tuo locale contattai il manager e poi al manager ha detto guarda se a Claudio serve una distribuzione internazionale io ho una buona distribuzione negli Stati Uniti per le cose sue e so che potrebbe andare bene lui non aspettava altro ma Claudio distribuisce con te ma anche con altre etichette o comunque in generale solo con te all'estero ho fatto solo qualcosina con altri ma tendenzialmente questo non l'avevo capito ed è una grande conferma anche per te no insomma dimostra no cos'è dal 2005 che lavoriamo insieme quindi sette anni e tutte le cose sono uscite sono sempre state Rustblade lui a proposito del disco che ho comprato ci sono delle canzoni fatte da lui sulle musiche di Carpenter come è che funziona questo The Way of Dark sono visto che ci sono Claudio Simonetti ha reinterpretato Halloween 1997 ma è curioso perché prima stavamo parlando del fatto che Carpenter copiava i Goblin e ora i Goblin rifanno Carpenter è una bella una bella sinergia sì ma in realtà Claudio è un fan di Carpenter cioè vedi sì 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 beh secondo lui poi lui è un virtuoso anche molto Claudio però Carpenter ha un approccio molto semplice la musica però mi ha sempre detto farla così semplice ed efficace non è facile quindi sempre stato un fan di Carpenter sai sono quei legami che abbiamo con alcuni artisti alcuni artisti hanno dei legami insomma come Claudio conosce Christopher Young che è quello che ha fatto le musiche del Razer sono amici conoscono hai visto il trailer del nuovo della nuova serie del Razer bellissimo io ho goduto come un po' forse tu non c'eri in live ma ho fatto delle scene sembrava una scimmia anzi ti devo ringraziare perché ho visto due film che mi hai consigliato fai sapere in giro che qualcosa ne capisco dai quali sono sono curioso allora Climax l'ho visto ok quello era facile dai è un bel delirio alla fine poi è molto musicale quindi a te sarà piaciuto eh c'ho qua il gatto che mi sta facendo impazzire anzi me lo presento ovviamente nero bellissimo bellissimo è qua che fa è l'orario da mangiare per quello che viene qua no Climax ho visto molto bello e Come to Daddy anche quello ha a che fare con la musica in un pezzettino molto simpatica la scena su Elton John fa spaccare da ridere non dico niente perché non la voglio rovinare rilancio e dico guardatelo Come to Daddy perché è un film molto bello passato un po' ignorato un po' da tutti molto molto figo molto figo e su Climax posso dire che c'è stato un momento in cui ho avuto un'ansia ah non dirla a me guarda io avevo il bambino io sono andato a vederlo in anteprima stampa e c'era anche l'hai visto al cinema tu l'ho visto al cinema e c'era anche la possibilità ma io avevo purtroppo non potevo rimanere di incontrare Gaspar Noé per fare qualche domanda ma poi non sono rimasto però avevo il bambino esattamente di 4 anni non diciamo niente sulla storia perché sarebbe spoiler però tu immagina io ero così attaccato alla poltona e ho detto no adesso me ne vado me ne vado via ho dovuto proprio sforzarmi a rimanere perché avevo l'ansia incredibile anzi anche adesso che ne parlo mi sta venendo quindi cambiamo discorso però appunto è sempre sempre bello comunque vedere questi film in una modalità comunque safe in cui tu hai la possibilità di provare emozioni anche spiacevoli su cui poi rifletti fai i tuoi ragionamenti no ti io ne consiglio uno a te se non l'hai visto credo che l'hai visto Mandy l'hai visto? si si adoro Mandy anche quello molto musicale è anche molto psichedelico il delirio psichedelico adoro Mandy si si mi piace un casino un film molto semplice poi mi piacciono i film cioè semplice belle anche le musiche di Mandy si si molto belle molto molto belle infatti ho preso il vinile di quello è bellissimo si credo di averlo anche recensito sia quello che climax e mi dicevi Carpenter anche lui è poi diventato un genere tant'è che ormai non fa chi suonare mentre noi vorremmo si ci piace però vorremmo che facesse anche i film o no il problema è che in America non è come in Italia questa è una roba strana proprio nel senso che in Italia ci sono autori che anche se fanno dei film di merda scusami il termine continuano a farli ok ma stiamo parlando delle classiche commediacce cose di questo genere no? sì però anche se non fanno cassa diciamo continuano anche se il film non va bene ci sono queste specie di meccanismi diciamo meccanismi di nepotismo no? di nepotismo non si capisce cosa c'è in Italia sembra che qua la meritocrazia non esista no no si può dire perché non è cioè si può dire perché è così cioè non è lo vedi anche dal fatto che lavorano sempre gli stessi attori lavorano sempre gli stessi registi cioè diciamo che si creano un ambiente chiuso in cui poi dici vabbè ok ci entro ma anche ci riesco ad entrare poi alla fine sei sempre lì non c'è competizione no facciamo l'esempio di Occhiali Neri se Occhiali Neri ci fossero stati altri attori tutti eh io sto parlando di tutti gli attori completamente un altro cast forse il film sarebbe stato leggermente diverso forse in che senso diverso come diverso come emozione capito a me ad esempio Asia Argento non mi è mai piaciuto come come attrice e credo che non credo che troverai molti che difendono Asia Argento come attrice si può dire che non è che sia mai stata un gran che la decadenza di Dario Argento inizia la sua figlia a recita nei suoi film adesso non vorrei dire che è una casualità però abbassa la qualità abbassa la qualità sicuramente non che lui abbia sempre avuto cioè anche i vecchi film hanno soprattutto dei doppiaggi brutti in alcuni casi vecchi film di Dario Argento però sono talmente belli che dici vabbè mi tappo il naso certe situazioni però sì lei non è lei non è molto brava la ragazza nuova lì che è stata presa non è molto brava il resto del cast non è neanche quello eccelso quindi sicuramente forse uno degli aspetti peggiori più negativi è la recitazione di Occhiali Neri è il budget allora secondo me il budget no non per dire che se fosse stato che avesse avuto più soldi avrebbe fatto meglio questo non ne sono sicuro però dal mio punto di vista Dario Argento negli anni 80 negli anni 70 aveva suo padre che era Salvatore Argento produttore e proponeva attori internazionali e se tu guardi Jeffrey Connelly hanno un carisma a parte lei che vabbè è famosissima però ce n'erano anche che adesso sono meno noti ma all'epoca erano più noti che hanno un carisma anche da fermi cioè certi ci sono degli attori che hanno un grande carisma anche senza che aprano bocca certo ma anche un Edwish Fennek da giovane ha un impatto incredibile perché ha una bellezza da diva strepitosa Barbara Boucher tutte quelle attrici sì 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 tutti questi attori qua anche quelli inglesi o americani scusa quello di Profondo Rosso come di che paese è lui è comunque inglese e lui è un attore inglese cioè ha un impatto sul suo Profondo Rosso enorme secondo me ma anche Jesse Carper in Suspiri eh sì 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 infatti pensiamo anche a Non ho sonno dove c'è la torre dell'esorcista cioè il prete dell'esorcista il produttore cioè allora i film non si fanno da soli ecco rimettiamo le cose insieme no? abbiamo parlato del fatto che Suspiri è un direttore della fotografia che è un maestro che le molte musiche sono dei goblin che sono dei geni della musica Dario Argento comunque aveva tantissime bellissime intuizioni c'erano attori di un altro livello e c'era il padre che era un produttore di alto cioè sapiente cioè è chiaro che vengono a mancare tutte queste cose eh una partita di calcio non la vince solo un giocatore quindi deve tutta l'azienda deve funzionare tutta l'orchestra deve funzionare infatti io scusami in più mettici la figlia che magari vuole per forza recitare nel film già quello questo film esiste solo perché la figlia secondo me cioè da quello che si evince dalle cose dette perché l'ha detto lei l'ha detto lui questo film è stato fatto perché lei è andata a scartabellare nelle scienziature vecchie del padre e ha detto facciamo un film certo però non gli ha detto fai un film facciamo un film certo certo e voleva voleva recitare nel film quindi c'è questa stranezza che poi sai influenza sai avere tua figlia in un set non è come avere cioè non è la stessa cosa perché se magari ci litighi non vai d'accordo la secondi ci sono dei compromessi morali nel film che Vittorio dice mi pare che abbia anche trovato i finanziatori ma indubbiamente sicuramente si sarà sbattuta per fare ma certo ma sicuramente e magari forse come produttore ha fatto anche bene nel senso con i pochi mezzi che aveva cioè nel senso che oggi veramente fare un film nessuno investe più in questi film qua quindi e soprattutto Dario Argento si è fatto terra bruciata con alcune pellicole che sono uscite che che hanno delle robe per esempio un Dracula 3D che ha delle scene davvero al limite dell'imbarazzante tipo la mantide o in realtà anche quel film lì io cioè io sarò strano io io dentro ci ho trovato delle cose interessanti sì allora sicuramente anche lì c'è un allora Dracula 3D è molto ironico cerca di fare un po' il film è dell'hammer è un po' una una sorta di citazione dell'hammer ma quello che l'ha rovinato nel senso scusate se lo dico è stato giallo giallo ha avuto dei problemi beh puoi anche andare a leggere su wikipedia ne parlano di questa cosa che ha fatto un buco produttivo non indifferente quindi tutti i produttori avevano paura di produrgli film a Dario Argento perché tanto ormai il nome non bastava più e lì ecco vedi lì è un esempio in cui ha chiamato dei attori di un certo livello il premio Oscar e la moglie di Polanski nei film ma il film comunque non reggeva sulla storia però loro il loro mestiere lo fanno bene secondo me in giallo ci sono delle belle intuizioni l'unico problema è che ci sono altri buchi che non riguardano la recitazione ma riguardano altre cose capisci mi viene da dire perché un carpenter è uno che il suo team se l'è tenuto stretto negli anni adesso io sto andando a scatti scusa e se l'è tenuto stretto montatore direttore la fotografia usati più più spesso possibile cioè lui si è visto un po' sfuggire quelli che sono i suoi collaboratori e da solo secondo me lui non può fare un film buono cioè lui perché secondo me in occhiali neri c'è del suo cinema figo ci sono delle cose fighe e mi spiace che le persone si fermino al giudizio al giudizio tipo ah finalmente ora posso insultare Dario Argento perché è tornato a fare la sua nuova schifezza invece secondo me un amante del cinema dovrebbe dire no cavolo ci sono delle cose che di stile che oggi la gente se le sogna cioè dentro quel film ci sono delle cose stilosissime molto personali molto emotive molto Dario Argento e poi vabbè c'è tutto il resto che è un po' rozzo un po' cheap perché è povero di mezzi anche la musica non è male secondo me la colonna sonora non è male certo non sono i goblin però comunque è una colonna sonora che comunque mangia in testa tantissime colonne sonore di non che ci sia tanta competizione in Italia oggi no 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 però mangia in testa anche a tanti altri film esteri che con la sonora sono poverissimi infatti poi non se le ricorda nessuno ah qua scusa leggo qua che non sapevo Vittorio dice che il direttore della fotografia di Dracula è lo stesso di Suspiria vedi sì però in Dracula c'è una fotografia sì io non lo so non è una fotografia bella quella che c'è in Dracula 3D però c'è anche la volontà di creare una roba molto c'è molto appunto citazionista di di quella di quella roba lì del del cinema della della Hammer cioè tu vai a vedere i film della Hammer non è che sono cioè non è che hanno la fotografia di Suspiria o di di Carpenter sono film che sono famosi per altri motivi non certo perché sono sempre sono perfetti ad esempio dal mio punto di vista Dracula 3D se lo faceva in bianco e nero spaccava poteva spaccare poteva già entrare in un sistema diverso però insomma dai io a Dario Argento voglio bene anche se ha fatto dei brutti comunque a occhiali neri che voto daresti diciamo a me dispiace perché sono andato io non gli do la sufficienza a occhiali neri mi dispiace però comunque qualcosa salvi c'è la scena dell'eclisse molto bella iniziale a me è piaciuta anche che a molti ha fatto ridere a me quella dei serpenti è piaciuta anche a me tantissimo perché la trovo la trovo il suo cinema quella esatto sì 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 poi lui sai c'ha sempre gli animali nei film quindi anche il cane a me l'ho trovata anche la parte molto la parte violenta del Dario Argento il cane che aggredisce non sto a dire cosa succede perché è spoiler però quella parte lì a me è piaciuta ho trovato a me poi piace assolutamente poi anche l'idea del camion del furgone bianco cattivo mi ha fatto venire un po' di ansioni inizialmente ricorda un po' la Christine il discorso di Carpenter tra l'altro a proposito lui è amico di Carpenter c'è una ovviamente stima reciproca il poster è palesemente una citazione di poster di S.B. di S.B. quindi anche dire che il camion bianco appunto diventa poi un personaggio come Christine diventa un personaggio ci sta ma infatti purtroppo poi alla fine il risultato non è non è da considerarsi comunque buono è zoppicante come film è zoppicante però però secondo me dà una lezione di stile dal punto di vista proprio della capacità di mettere stile e personalità nel girare che oggi vedo che non c'è manca sì assolutamente ti faccio un esempio di un film molto che è piaciuto molto che è Freak questo film l'hai visto? no non l'ho visto ho visto l'altro è un film molto molto bello dal punto di vista dell'impiego di mezzi tecnico e tutto però io lì non ci vedo niente di stile proprio non ci vedo stile mi sembra una copia di un film americano che però visto visto in Italia dici cavolo però è riuscito a fare qualcosa che riesce a somigliare a un film americano va bene cioè e comunque va apprezzato perché non è facile per noi però non mi basta preferisco un film più più povero di mezzi ma che lo guarderò comunque ti farò sapere sai i film italiani faccio sempre non è che faccio sempre fatica a vedere dei film ecco un film italiano che a me è piaciuto horror è il nido è bello bello sì sì tra l'altro l'horror fatto con niente cioè nel senso che è un horror che l'horror è nascosto da un'altra parte un po' come che ne so in Rosemary's Baby non c'è l'horror l'horror è tutto intorno non lo vedi mai quindi è quel tipo di molto molto bello girato bene anche lì la musica con questo rifacimento di Where Is My Mind no? lì la musica ha avuto un impatto devastante non credi? sì The Nest il nido senza Where Is My Mind ha fatto a pianoforte non so quale sia la storia musicale dietro al rifacimento se esisteva già o è stato fatto per il film però senza quella musica lì nessuno gli avrebbe dato quello che gli ha dato secondo me poi si faccio un altro esempio adesso cambio tu ti riferivi a The Nest si non ha il nido che è un altro film molto interessante che ti consiglio no io guardo il nido è quello dove quella famiglia rinchiusa in quella villa che non fanno uscire sì The Nest sì lo stesso regista di A Classico Oro Story esatto però A Classico Oro Story mi è piaciuto anche lì la musica ha un ruolo interessante no? sì 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 ha un ruolo interessante però non me la ricordo questa è neanche la musica finale neanche la musica finale no non me la ricordo questa è la differenza che fa la colonna sono qua in profondo rosso non puoi non dimenticarti non puoi non ricordarti la musica perché la finale il finale mi sembra che sia il cielo in una stanza la canzone finale ah ma tu dici le canzoni ah le canzoni no c'è la c'è la colonna sonora tra l'altro il compositore la conosco la la c'è una canzone c'è la colonna sonora e poi c'è una canzone finale molto azzeccata secondo me nel finale sì sì mi piacciono a me queste cose assolutamente d'accordo sì ti faccio un esempio che non lo diresti mai l'hai visto l'anticristo il film adesso non mi ricordo aspetta che lo cerco dimmi pure intanto dimmi pure cosa che tra l'altro l'anticristo non so se è uscito ma è anticrist di last one three no no l'anticristo il film l'anticristo 74 esatto l'anticristo che non so se è uscito prima lui dell'esorcista o dopo l'esorcista perché sai poi in Italia cosa succedeva quando c'era un film che aveva successo internazionale subito la copia esatto che poi gli riuscivano anche molto bene le cose anche con i film degli squali eccetera eccetera zombie gli zombie la musica dell'anticristo la fece Ennio Morricone che nessuno o pochi sanno di questa cosa che è questo violino tutto tutto strimpellato strano e Bruno Nicolai Bruno Nicolai Bruno Nicolai Bruno Nicolai ma con Ennio Morricone ah ok ok sì 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 con sì sì dicevo con Ennio Morricone no questo lo devo non mi ricordo devo vedere guardalo è molto molto bello meraviglioso poi sai la musica appunto aumenta l'impatto dei film eh sì assolutamente io dimmi Ennio Morricone Ennio Morricone Ennio Morricone sai che le musiche di Ennio Morricone le dovevano fare i Coil che poi non sono questo gruppo che io adoro è un gruppo in dastria diciamo erano troppo ostiche e gli fecero fare a Christopher Young io Christopher Young lo adoro cioè le musiche dell'Erazer secondo me sono classiche perché comunque sono ah guarda ha citato adesso stavo dicendo Vittorio che che mi sembra anche avere una buona cultura cinematografica ha citato una scena che diceva ma qual è ma qual è poi mi è venuta in mente ho detto cavolo che bella in il massacro della Maciara in Sirizio un paperino c'è quei giorni insieme a te della Vanoni ti ricordi che la pesta con le catene mi sembra e c'è questa musica che stona tantissimo con la violenza invece della scena una scena meravigliosa che diventa epica proprio per la scelta musicale molto bello molto bello dovremmo magari in futuro se voglia facciamo un'altra live tra un po' magari organizzata dove andiamo a prendere un po' di scene magari dove sono organizzato meglio che non mi vada a scatti tutto e mettere tanto vabbè sicuramente una live che mi verrà stricata per il copyright però chi se ne frega e mettiamo dei pezzettini perché secondo me è bello anche vedersi sì sì assolutamente ma anche in tanti film di Lynch c'era musica c'era dei brani che insomma che ti remangono in testa perché qua secondo me bisogna dividere quello che è la sound beh ma Twin Peaks ragazzi stiamo parlando di una colonna sonora più belle di tutti i tempi cioè Twin Peaks forse arriva ai livelli di Morricone sì assolutamente e di questa gente qua adesso adesso non me ne appunto io non sono un grande cultore ma piano piano me la farò la cultura di colonne sonora ma gli americani anche loro hanno dei grandissimi noi abbiamo prodotto una colonna sonora che ti manderò molto molto bella di Ebilenko che la fece Badalamenti ho visto ho visto Angelo Badalamenti e all'interno della colonna sonora c'è Dolores dei Cranberries la cantante che canta la canzone uguale uguale o rifatta? no 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 la canzone ah c'è lei che canta nella colonna sonora quindi fa un pezzo apposta per te la consiglio tra l'altro è la quella che è morta povera poverina sai che tra l'altro non c'è possibilità di sentirla? sì se la trovo su Spotify o su credo che su Spotify allora o mi dai la mano tu trovandola mi fai la cortesia allora prova intanto Angelo Badalamenti e Vilenko su Spotify prova a vedere se c'è ah su Spotify magari se hai problemi di scatto se no lo ascoltiamo su YouTube su YouTube c'è sicuro allora scusa Gonza se ti rompo no ma va siamo siamo qua proprio per parlare di queste cose quindi non è che cioè ci sta più che altro non so come trovare proprio quell'album lì perché ne avrà 300.000 la discografia allora beh la colonna sonora è Vilenko sì sì il film l'ho visto anche tempo fa ma lo ricordo un po' ah lui ha fatto anche Dark Water quello sempre con non la ricordo però la musica allora rifacciamo ma se magari non c'è magari non c'è c'è su YouTube ecco però YouTube se ti va a scatti no ma il problema non è tanto che YouTube va a scatti il problema che avere adesso attualmente ho troppe cose che stanno processando i browser poi hanno non so per quale ragione hanno sempre un grande consumo di CPU quindi mi mi incasina intanto approfitto per chiedere a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando e supportando di supportare appunto quindi insomma se vi va abbonatevi con Prime è gratuito e vi elenco si scrive è vi elenco tutto attaccato con la K cosa cerco? soundtrack però non è facile perché noi abbiamo fatto il vinile però insomma se lo trovi se no ecco su YouTube c'era questo me lo ricordo il problema è che trovo il full il full vinile tutto attaccato quindi poi andare a un pezzo singolo non è proprio non è proprio tu sai che pezzo volevi sentire? credo che sia quello a parte che noi abbiamo fatto il teaser con la musica con la canzone dove c'è Dolor ci sento solo un pezzettino tra l'altro tu non lo senti quindi diventa un po' un problema comunque ecco l'ho trovata ce n'è una con Dolores Oriordan si chiama Angel Go to Heaven esatto ok questa qua allora la metto su un attimo tu purtroppo non la sentirai tra l'altro lei è stata diciamo celebrata recentemente con un fumetto che si chiama Dolores che è uscito con un editore italiano e parla appunto dei cranberries di lei lei è morta per un tumore qualcosa del genere no si è suicidata era depressa si aveva ecco hai ragione diciamo che sono quei suicidi che stanno succedendo adesso con gli antidepressivi questa è una cosa più allucinante cioè l'antidepressivo diventa un motivo di suicidio ah questa cosa non la sapevo è successa la stessa cosa al cantante di song garden è la stessa cosa è successa al cantante di Linkin Park nel senso che ma scusami una cosa è una meraviglia sto pezzo ma no ma ma da brividi proprio è abbastante lei canta io sono contento tra l'altro io avevo prodotto il disco qualche mese dopo è morta io sono forta sfiga no dai anche quando è morto ma no non c'entra sono coincidenze sono coincidenze lo so sto scherzando però insomma mi dispiace lei lei tu senti ha una voce spettacolare sì poi anche diciamo tolta dal suo genere perché poi lì ti deve piacere il genere riesce anche ad apprezzare di più le sue doti canora no perché in questa qua canta in un modo che proprio viene fuori cioè non è rock quindi viene fuori anche la dolcezza della sua voce ma perché lei ha studiato canto in chiesa e quindi viene da quel mondo lì ed è perfetta per questo lo tolgo perché sappiamo che badalamenti poi sul romanticismo sulle voci cantate sono anche in Twin Peaks se ricordiamo bene non scherzava sì sì infatti infatti non mi dispiacerebbe avere anche quella con una sonora te la mando te la mando te la mando no vabbè no lascia stare mi fa piacere sai perché mi fa piacere perché ci sono io credo che anche un produttore deve deve aiutare alcune persone a capire alcune cose ma non che tu non le capisca ma magari ti sono sfuggito no no io non le capisco no no non è che non le capisci non le ha ascoltate o non le hai io sono molto umile sulle cose che non capisco cioè che non sono il mio pane quindi io quando parlo di musica metto sempre le mani avanti e ascolto quello che mi dicono e cerco di capire poi ci sta poi secondo me che appunto cerchi di far conoscere questo ambiente perché è molto affascinante chiama il cinema è un po' e deve anche un po' entrare in tutti questi ambiti qua no cioè se vuoi essere se vuoi godere del cinema devi iniziare a capire tutte le sue parti secondo me certo fa conto che io non era la prima volta non è stata mai non ho mai cioè tante volte io ho ascoltato prima la colonna sonora e poi mi sono visto il film è successo ed è bello io secondo te che cosa cambia in termini proprio di percezione perché l'ho fatto anch'io allora secondo me allora è una cosa strana nel senso che tu sai già quando parte la musica già la riconosci già sai già la scena e la cosa bella è che tu la vedi realizzata la musica cioè tu vedi come come è stata interpretata dal film perché tu gli dai un'interpretazione tua prima di vedere il film esatto te la immagini ma magari è completamente diversa da quella che ti immaginavi sì secondo me poi non c'è un modo giusto no? come ti senti potrebbe essere bello scoprirla durante il film come a me è capitato tantissime volte di usare la musica come cioè la colonna sonora come prolungamento dell'orgasmo cioè io ho goduto vedendo un film che ha una bella musica mi vado subito a ascoltare per 16 volte di seguito la colonna sonora e quindi proprio godo ancora cioè cerco di protrarre quella sensazione bella che mi ha dato il film ti è successo no? una cosa del genere vedi sì vittorio dice io non lo faccio perché i titoli dei brani spoilerano i momenti del film in realtà è vero perché alcuni titoli dei brani alcuni sono sai già che magari la musica sta partendo c'è un omicidio certo voglio parlare un attimo anche di perché poi ne abbiamo parlato poco all'inizio di Zio Tibia com'è nata la cosa di questo è il tuo primo film che stampi diciamo che produci che produci anche perché mi hai detto che poi alla fine c'è dentro anche la tua musica sì quindi cioè tu ti sei trovato mi puoi citare intanto chi sono i registi che magari lo sai allora Ale e Max Ale e Max Copertino tra l'altro sono due gemelli sono qua esatto ok io conobi loro a un concerto di Claudio Simonetti perché organizzavo Suspiria a Milano perché la cosa bella di Claudio che vi consiglio assolutamente di provare questa emozione e magari Gonzo se vuoi ti invito a vederlo sono le sonorizzazioni cioè Claudio Simonetti suona durante il film quindi Profondo Rosso ti faccio un esempio lui proiettano il film loro suonano nelle scene dove ci stanno la musica dei Goblin stessa cosa ha fatto con Suspiria molto bello perché la musica live senti la musica live e vedi il film il film continua ad andare con i dialoghi e tutto non è che fanno una cosa cioè tutto perfettamente assincrono cioè partono quando c'è la scena ma le scene dove non c'è musica cosa c'è sempre qualcosa c'è sempre no no loro non suonano dove ci sono le scene dove non c'è musica quindi come se fosse una pausa poi ricominciano nel momento in cui comunque non sono lunghe cioè c'è sempre qualche sotto fondino anche nelle scene più tranquille si si fanno anche quello ecco una cosa così non l'ho mai fatta cioè rivedere una roba così deve essere bellissimo è bellissimo anche perché quando c'è Suspiria in Suspiria la scena del primo delitto ci sono i c'aveva i timpani il batterista e quindi sentivi proprio cioè ti emozionava proprio sì poi il discorso anche dell'impatto audio che cioè quando guardi film a casa la grande differenza tra guardarli a casa in un bel cinema è proprio il Dolby Digital cioè il fatto che al cinema tu hai oltre all'effetto tridimensionale un ottimo impianto audio almeno così dovrebbe sempre essere invece non è così però quando c'è allora ti rendi conto il brutto di vedere i film a casa non è più la grandezza dello schermo quella è una cazzata perché uno può comprarsi un 62 pollici di una qualità mostruosa con i neri perfetti e si vede un bel film e la distanza poi diventa la proporzione la vera differenza tra cinema e casa è proprio l'audio quindi secondo me poi vedere il film in un contesto di concerto con le casse che si sentono bene tutto che si sente da Dio deve veramente avere un impatto incredibile il film immagino io consiglio a tutti di prendersi un minimo di impianto che poi impianti investire nel senso se tu investi in una televisione grande lo fai una volta lo fai una volta ci sono anche delle barre le barre abbastanza buone con il woofer perché allora ti posso chiedere una cosa perché io lo faccio con i miei ospiti ti posso chiedere qualche consiglio di acquisto allora dipende da condividere non da mettere qua lo fai con calma da condividere solo con i miei abbonati ok va bene perché io cerco di creare anche dei contenuti per le persone che mi sostengono quindi che fanno uno sforzettino di abbonarsi o di fare diventare patreon appunto esclamativo patreon se volete diventare patreon e quindi magari che ne so mi dai delle dritte tecniche per tipo tre scelte una super economica accettabile e così via così le condividiamo nel mio diritto magari mi invento anche qualche altra richiesta da chiederti ti chiedo anche le tipo esatto colonne sonore consigliate ovviamente saranno tutte sul tuo sito no sto scherzando chiaramente poi una o due ce ne sono facciamo una cosa onesta un paio dal tuo sito e altre che possono cercarsi in altri in altri lead diciamo però comunque colonne sonore consigliate da te e diciamo un impiantino tecnico per vedere i film si può dire per vedere i film non per la musica ragazzi qui siamo in un blog o comunque in una trasmissione che parla di cinema horror pensiamoci bene noi quando vediamo un film horror se abbiamo l'audio di un certo tipo il film ha un effetto un po' più spaventoso questo è poco ma sicuro cioè questi tutti gli effetti sonori che poi adesso sono molto esperti nel farlo se è un buon impianto salte un po' più sulla sedia capisci quindi tra l'altro prenderò anche io usufruirò di questo consiglio perché io non ho l'impianto e cioè mi piacerebbe una barra perché effettivamente ho problemi a crearmi tutti i fili le cose per fare un dolby quindi le barre sono sempre questa cosa che dici sì ma la barra a me è sempre dato un'idea di qualcosa di non buono forse perché le prime barre non erano buone no ti spiego il problema è che adesso è difficile trovare cioè è difficile trovare l'amplificatore con le casse cioè non è come una boss ok ok per quello che consiglio la barra io ad esempio c'ho un impianto in dolby 7.1 della boss della boss che sai non dare consigli no stai già dando consigli di market sono tutti per i miei abbonati consigli allora ricordate che se siete abbonati al canale su discord avrete i consigli tipo 10 colonne sonore imprescindibili per chi vuole iniziare una collezione e oppure per chi vuole che ha già una collezione avere un consiglio su cosa prendere e poi anche che ne so tre consigli su cosa acquistare grazie mille Eliose per il sostegno fate tutti come Eliose per acquistare un impiantino carino poi esatto appunto vediamo le fasce di prezzo perché appunto ognuno ha le tasche che ha ed è giusto ed è giusto fare questo tornando a parlare un attimo di Zio Tibia hai conosciuto i due registi mi dicevi a questo concerto di Claudio Simonetti dove faceva la sonorizzazione di Suspiria e niente loro mi parlavano già guarda noi sai che avevamo prodotto un documentario su Zio Tibia ha detto interessante parliamone cioè mi interessa poi la cosa nel tempo vabbè con i ragazzi di Zio Tibia hanno anche un canale su Facebook ci siamo incontrati più di una volta in varie interviste tra le release che facevamo ho fatto anche dei DJ set esclusivi per loro insomma quindi siamo diventati un po' amici ed è ritornato di nuovo il discorso e ho detto guarda c'era un problema di diritti ancora da risolvere li avevamo risolti e niente ho detto facciamolo quindi il documentario non è rassonalizzato prima di no no c'era il problema è che poi i ragazzi mi hanno detto vorremmo mettere alcune musice come facciamo e io in quel periodo avevo fatto il progetto che si chiamava Tibia ho detto guarda io guarda a caso ho un progetto elettronico che si chiama Tibia con i copyright vai tranquillo che sono roba tua certo e loro l'hanno ascoltato ho detto cazzo ci sta da dio e si è fatto insomma è anche un bel è un bel un bel prodotto da mettere dentro a un proprio documentario cioè di solito comunque uno pensa alla parte di interviste e cose e e dice chiaramente se sono produzioni indipendenti dice non è che ho i soldi per pagare un musicista che non gliene frega niente me lo fa apposta tu sei un appassionato quindi una sinergia perfetta diciamo e adesso ti faccio fare uno spoiler tu hai cioè sei affascinato da questa cosa di produrre dvd insomma film blu ray quindi sei stai pensando di farne altri di altri generi di altre cose allora l'idea ci sono un po' di idee che ci sono ruotate nella testa sia me che Ale Copertino e Max era quella di dire scusa la ziotibia presentava degli horror ok perché non continuiamo questa cosa dicendo ziotibia presentata come se fosse un'etichetta come se fosse come se fosse un'etichetta con brandizzata a ziotibia che ci sta ci sta di brutto l'idea della madonna questa idea la voglio concretizzare a breve perché comunque voglio portare avanti la cosa perché ziotibia è andato molto molto bene io ti dico una cosa stai attento a cosa non vuoi dire io perché io ti faccio le domande però non voglio metterti in una situazione che dice ah cazzo ho detto una cosa che non volevo dire non volevo anticipare no lo faccio perché ci tengo a magari uno nell'entusiasmo dice cose che avrebbe preferito tenere nascoste non voglio farti cadere nel tranello che mi spoileri tutti le tue cose però volevo no vi dico solo che sto contattando dei registi ok e sto cercando di visionare il materiale e cercare di capire che rapporto può avere sia con l'Italia che eventualmente con l'estero ok ma posso sapere se stiamo parlando di vecchi film o anche a momento solo nuovi film di registi emergenti nuovi io ho un'idea abbastanza precisa sul tipo di film come l'ho avuta sul fumetto che ho fatto poi l'hai letto il fumetto di Demony l'hai spogliato? sì sì l'ho letto l'ho letto sì 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 non l'ho finito perché appunto pochissimo tempo ieri sera mentre avevo un occhio aperto l'ho guardato sì sì tra l'altro in inglese io ho un po' di difficoltà quindi è fatto bene lo stile è quello di riprendere i vecchi splatter i vecchi splatter certo la mia idea è quella di fare di trovare dei registi che facciano dei film con l'impronta italiana cioè con l'impronta proprio di una voglia non è semplicissimo però non è semplicissimo però si può fare più che altro penso che bisognerebbe anche uno per esempio è come fare un festival uno fa il festival quindi i registi dovrebbero anche capire che ora lì c'è un festival fa il film fallo cioè perché quindi se ci sarà un'etichetta che è gestita appunto da voi che dà uno spazio si spera che la gente colga l'occasione chiaramente si spera l'unico problema è l'artista poi con cui ha che fare questo è lo dico proprio sinceramente nel senso che ci sono artisti che non riescono a capire che bisogna investire il proprio tempo in certe cose e fare una costruzione un percorso non si può avere tutto subito le cose vanno fatte col tempo vanno fatte col cuore soprattutto quando non si hanno troppi soldi vanno bisogna però bisogna metterci di più Italia insegna che tra i registi più famosi come Giordamato avevano pochi soldi ma sì ma quella è una scusa quella è una scusa del cazzo il fatto è che secondo me tante persone si buttano nel mondo della regia convinte che che basta basti volerlo in realtà secondo me un minimo di genialità ce la devi avere devi essere un artista sì perché poi vai a sopperire alle imprecisioni con i soldi vai a sopperire con i tecnici ti trovi tecnici che ti aiutano cioè se tu prendi un bravo tecnico del suono che è giovane ma è bravo non è che spendi tanto e ti fai un film con i suoni fatti bene certo il problema è che tu devi essere però veramente un artista uno che ha la visione uno che non solo uno che vuole farsi dare le pacche sulle spalle mettere le le coccardine sui propri profili eccetera quindi c'è una domanda che mi incuriosisce ma di cui io so abbastanza la risposta ma il nome di Ziotibia si può usare liberamente? ti lascio rispondere a te sì e no nel senso che noi usiamo Ziotibia Horror Piccius Show abbiamo inventato un cioè ci siamo inventati comunque il nostro è un omaggio a Ziotibia il personaggio Ziotibia effettivamente viene dalla Mondadori e noi però scusami il personaggio della della Mondadori è ah sì ok è Ziotibia che tra l'altro è un personaggio americano a sua volta esatto Ziotibia prendeva ispirazione da Tales from the Crypt dal personaggio di Tales from the Crypt però quello che fate voi è usare il programma cioè i diritti cioè voi allora se non sbaglio dimmi se se dico una cosa scorretta Alex e perdonami non mi ricordo mai i nomi e Max copertino sono detengono i diritti della trasmissione quindi del del personaggio pupazzo e della trasmissione no? no no in realtà loro vogliono omaggiare la trasmissione ok loro fanno un documentario che omaggia la trasmissione ok adesso la loro idea era quella di portare avanti poi Ziotibia ok sappiamo molto bene che ha avuto vi dico una cosa molto brutta nel senso che quando abbiamo prodotto il DVD appena riuscito il Stefano Cananzi che era quello che stava all'interno del pupazzo è morto di tumore pochi giorni dopo che è l'uscita siamo riusciti a dare un segnalare in tempo e siamo riusciti a farglielo vedere per fortuna ho capito capito al di là di questi temi qua che sono sicuro tu Stefano che sei una persona precisa ti documenterai su quello che va fatto o non va fatto comunque l'idea è di produrre film in generale no? iniziare a provare non so allora la mia idea non è di fare il produttore di film scusami volevo dire distribuire film esatto la mia idea è quella di prendere no anche perché è un suicidio oggi come oggi produrre un film prendere un film già prodotto visionarlo e se a me piace secondo dei canoni miei che riguardano anche comunque c'è tutti in relazione anche a quello che pensi possa vendere piacere esattamente anche all'est soprattutto all'estero forse per ragioni esatto sto parlando anche di film tra parentesi trash horror non solo horror io sto parlando di un cinema di genere che può essere esportato alla troma anche un po' al stile troma anche magari magari forse alcune volte i film indipendenti italiani perché si parlerà di quelli a volte sbagliano anche un po' a collocarsi perché alcuni sono un po' trash e forse venduti come trash funzionerà però meglio noi abbiamo prodotto adesso qua non so se ce l'ho noi abbiamo stampato la la colonna sonora di vendetta dal futuro che è un film b movie italiano di serie b di che anno è quello è anni 80 ma è quello non è endgame quello che si chiama perché c'è anche quello di non è di D'Amato no no End of Steel si chiama il film in inglese aspetta che provo a vedere se trovo la mi bannate no ti banno io le celle eccolo qua guarda noi abbiamo fatto la colonna sonora di questo film eccolo qua questo qua ecco ho bannato quello sbagliato questo film qua praticamente era un mix tra Terminator e Mad Max fondamentalmente ah fighissimo era il periodo insomma che andava sia Terminator che Mad Max cioè l'impatto che ha avuto questo film all'estero è devastante cioè tu non hai idea di quanta gente è impazzita per quel film la stessa cosa vale per Demoni la stessa cosa per alcuni film che in realtà si sono molto belli cioè fatti bene eccetera però hanno un collato trash non indifferente diciamo quindi insomma vogliamo parlare di Demoni quando c'è il tipo con la moto con la spada che taglia si 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 capisci ecco questo tipo io non sto cercando questo tipo di film sto cercando di capire si sono molto è come nella musica che abbiano una cosa caratteristica che possa essere originale ecco certo perché il problema è che c'è limitazione di limitazione di limitazione quando in realtà un regista dovrebbe prendere la telecamera e fare quello che si sente di fare non deve sempre pensare a cosa pensa il pubblico sì bisognerebbe anche imparare imparare un po' questa regola che se guardi poi i grandi autori la capisci cioè iniziare a raccontare le proprie cose no? c'è questa c'è questa voglia di imitare sempre sempre qualche qualche vecchio autore italiano o americano mentre invece forse verrebbero meglio i film se si iniziasse a parlare di quello che si conosce cioè parlando della propria vita poi certo puoi citare fare metterci sangue budella però manca un po' questa cosa con Demony hai fatto un lungo percorso hai fatto Demony 1 Demony 2 il fumetto la maschera eh sì perché era un prodotto che vendeva tra l'altro Demony ha una musica bellissima cioè proprio quello che genere è ma è anche una musica che si ascolta volentieri anche a di fuori dal film è un dance horror diciamo italo dance horror ecco che va tra l'altro negli Stati Uniti va molto questo genere tu non hai idea di quanto hanno influenzato alcune cose italiane soprattutto negli Stati Uniti che noi non neanche le consideriamo neanche sappiamo che esistono questa è la cosa assurda nel senso che ci sono dei film anche di di Lamberto Bava che pochi conoscono che all'estero sono non so anche Micheli Suavi e comunque anche oggi sono difficili da vendere qua nonostante sia tornato un po' l'amore per l'horror comunque tu fai tu fai un'edizione per esempio di Non si servizia un paperino la fai un po' bella non è sì magari ne vendi qualcosa ma non è che la gente va eppure è uno dei film considerati più importanti di Fulci o comunque del genere sì la cosa ti faccio un esempio non so vediamo un attimino quale potrebbe essere un esempio giusto ad esempio io ho comprato Buio Omega di Giord Amato il film il film all'epoca quando uscì il DVD perché in videocassetto non lo trovavo più da un'etichetta francese in Italia non era ancora uscito beh io ho comprato della morte dell'amore da da Shameless che non so di che paese sia ma è un'etichetta straniera che è un film nostro cioè eccolo qua abbiamo fatto anche la colonna sonora della morte dell'amore che bella che bella questa in venile in venile in venile viola tipo da camera in venile in venile in venile che non non sembra non piacere diciamo gli esperti di cinema in realtà secondo me è un film fighissimo io l'adoro io l'adoro c'ha delle trovate notevoli l'odore bellissimo secondo me è un film geniale ma suavi è un po' sottovalutato è sottovalutato sì in Italia sì all'estero no perché lui ma all'estero tutti i nostri sono perché riescono loro riescono ad andare oltre la povertà dei mezzi andare oltre tutta una serie di cose vedono vedono l'originalità che c'è nel cinema dei nostri vecchi registi noi invece vediamo una roba fatta non troppo bene non troppo e abbiamo la puzza sotto il naso non so perché no che poi tu tu non stai non stiamo parlando di un film che tu dici cazzo è bruttissimo no in realtà ha una serie di cose cinematografici ma anche come contenuti è fighissimo ma da paura da paura cioè a parte il grottesco anche la c'è la scenografia che c'ha gli attori perché Rubber Everettria in quel film è bravissimo poi tra l'altro è uguale a Dylan Dog ovviamente è ispirato a lui ma tu la sai che ti racconto un aneddoto Dylan Dog vabbè chiaramente è ispirato proprio preso dai suoi tratti e non è una cosa che i disegnatori di Dylan Dog facevano a caso lo fanno spessissimo e io io a scuola io ho fatto la scuola del fumetto tanti anni fa a scuola avevo Ambrosini come insegnante che è un famoso disegnatore di Dylan Dog e nei primi giorni non sapevo chi fosse apro la porta della scuola che era in un appartamento molto grande un appartamento da 300 metri quadri apro e mi ritrovo davanti a me Xabaras sai il cattivo di Dylan Dog era Ambrosini perché Xabaras è stato disegnato sulle sembianze di Ambrosini quindi è stato un flash per me perché ho detto Michele esiste esiste veramente io non te l'ho dato abbiamo fatto anche il fumetto di Dawn of the Dead ma è più piccolo di quello di Demony però ti darò anche quello e c'è una scena della fumettista che ci ha messo tutti insieme sia io sia Claudio a forma di zombie c'è proprio il sfondo quindi e sì perché io l'ho fatto il disegnatore cerchi sempre poi ti serve anche prendere le sembianze di una persona reale perché poi quando lo devi disegnare di fianco di lato dall'alto ti vai a cercare tutte le foto dalle riviste eccetera beh adesso c'è internet ed è semplicissimo però chiaramente se io inventassi un personaggio che assomiglia a Brad Pitt avrei tutte le posizioni possibili per ritrarlo quindi sarebbe semplicissimo per me vediamo che cosa dicono in chat c'è qualcuno c'è Vittorio che cita film buonasera ciao Chris benvenuto ciao Chris ciao ciao è vero sì sì cosa ne pensi del nuovo diabolic allora interessante domanda molto interessante allora i registi secondo me sono stati molto bravi a fare quello che era il fumetto di Diabolic cioè riprodurre esattamente quello che era il fiumetto che era la volontà poi in realtà di questa produzione la pecca che assurdamente è sempre l'attore ho detto la stessa cosa quando ho parlato di Diabolic che gli attori non sono bravi che tra l'altro è un attore bravissimo lui cioè lui è molto bravo come attore ma anche Mastra Andrea che non è che sia Robert De Niro comunque ha fatto film migliori di questo poi l'unica che salverei è Miriam Leone che non è che sia proprio una grande attrice quindi lei ha fatto quello che sapeva fare cioè niente però però c'è da dire che Miriam Leone non per fare il discorso sessista cioè che è figa è fighissima per carità di Dio ma secondo me è più di figa è una diva vera e propria quindi questa cosa qua ci sta bene lei è proprio una diva ha un bellissimo cioè ha proprio un impatto potente nella pellicola però come attrice cioè deve un po' crescere perché veramente non infatti stanno facendo il continuo hanno eliminato l'attore di cose e hanno tenuto lei perché lei è comunque perfetta lei secondo me io li scagiono un po' perché secondo me è anche un po' colpa della direzione del cast perché io ho visto attori dare questi attori li ho visti dare di più ma Strandera l'ho visto recitare molto meglio in altri film beh anche anche il protagonista anche il protagonista che anche a me non viene in mente il nome è stato più bravo in altri film quindi Marinelli è un peccato perché comunque il film funziona perché è un tributo al fumetto esattamente come era fatto se non ti piace il fumetto non ti piace il film cioè questa è la regola però non è male insomma il sapore qualcuno un mio amico mi ha detto quando ho visto le orecchie di Diabolic non ce l'ho fatta andare avanti perché ha le orecchie praticamente avvolte da una gomma è una scelta che qualcuno potrà ritenere ridicola io l'ho trovata quel tantino trash che mi è piaciuto perché nel fumetto nel fumetto sono coperte credo non lo so non lo so qualcuno che forse Vittorio è un grande appassionato del fumetto quindi ci può rispondere adesso a memoria non me lo ricordo ecco poi vabbè parto anche dal fatto secondo me la migliore interpretazione del film penso un po' quale scusami Vittorio qua mi prendono in giro perché mi ha detto Mastra Andrea forse Marineli Cramoroso non essere cattivo beh a me Marineli è piaciuto in Girobo sì sì no è più bravo più bravo lì non so comunque in generale non è un prodotto mi è piaciuta la storia sì bella mi è piaciuta l'ho trovata divertente non male no quello è stiamo citando il film di Cucchi no quello lì è Borgin l'altro attore sì comunque diciamo che il problema è che c'è un livello di attore talmente basso è sempre la solita cricca che non c'è competizione non c'è non si alza il livello se tanto lavorano quelli che sono della cricca e poi lavorano troppo spesso sempre gli stessi troppo spesso nei film che sono ed è quello che dicevo prima importanti nel film ad esempio nel nido nel film che ti dicevo prima in italiano gli attori sono sì a parte uno mi sembra sono sconosciuti sì sì sono diciamo agli inizi sono però bravi però molto bravi anche i bambini sono bravi cioè è un problema ma allora è un problema di posso dire cioè mettono marinelli perché è il momento di marinelli mettono cioè capisci in realtà su un film così delicato come Diabolic a parte che per me il vero film su Diabolic è quello di Bava adesso potete dirmi quello che voglio ma sì ma a parte questo però poi si può si può comunque farne altre nel senso sono passati anche un po' di anni però hai ragione a dire questa cosa che dici cioè non è che marinelli ti porta al cinema un milione di persone in più cioè perché lo scegli cioè perché come li scegli un conte Miriam Leone che quantomeno è famosa è bella è veramente qualche fan te lo porta ma gli altri cioè infatti sono d'accordo con Chris che dice che marinelli e Mastanella sono molto bravi l'odore della noccia ma io l'ho detto cioè non ho detto che non sono bravi ho detto il contrario ho detto che sono stati più bravi in altri film cioè non si capisce come mai qua sono in calo per questo mi viene da dire da dare un pochino di responsabilità alla direzione del cast perché non puoi mettere Marinelli a fare Diabolic perché Marinelli è bravo in altri ruoli secondo me Diabolic ha bisogno di un attore di un certo tipo cioè non è facile fare Diabolic cioè come fare Batman cioè si assomigliano anche un po' come personaggi esatto sono entrambi ricchissimi sì perché Diabolic per essere così per creare i marchi ingegni in tutta la città deve essere straricco lui non ruba perché ha bisogno di soldi ruba perché vuole dimostrare qualcosa non so qua Vittorio dice che hanno voluto fare la recitazione da sceneggiato ma secondo me non ce n'era bisogno allora potrebbe essere quello che dice lui cioè che hanno cercato di fare qualcosa che però non gli è riuscito o non è stato capito e che è percepito come ma ha recitato potrebbe essere in effetti è assolutamente vero sì quello è vero ma se gli italiani non ci metti Favino pure a Corsi chi metti ma è tutti gli sconosciuti che non fanno lavorare quello è il problema esatto tutta la meritocrazia che non c'è chi ci metti proprio perché noi non li sappiamo proprio perché fanno lavorare sempre gli stessi non c'è no ma non c'è in Italia non c'è meritocrazia in nessun ambito e infatti poi le aziende vanno falliscono vanno male vengono svendute perché poi alla fine i risultati sono tutti sono tutti negativi sai cos'è il problema come dicevi tu i film non hanno neanche bisogno di andare bene perché vengono usate sovvenzioni del governo cioè sovvenzioni pubbliche che però sono in mano a persone che le danno sempre agli stessi cioè i vanzina i film li hanno fatti sempre con anche con buona parte delle sovvenzioni per fortuna sono finiti quei film lì me lo credo questo è ahimè il nostro il problema è che quando c'era allora torniamo proprio indietro 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 quando c'era Fellini che faceva i film ragazzi perché gli davano carta bianca a Fellini alla fine perché ha vinto dei premi Oscar perché i film di Fellini dopo 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 un certo tipo sono bellissimi però sono fuorissimi e è un produttore che mette dei soldi su un pin di Fellini si caga addosso perché dice questo è matto completo cioè faceva tutto su teatri di posa faceva tante cose ma perché perché era Fellini capisci se Pasolini è già diverso perché Pasolini ahimè ha avuto dei problemi con la sua omosessualità eccetera però diciamo i grandi registi a un certo punto gli davano carta bianca com'è successo con Dario Argento capisci sono quei nomi che sono intoccabili ma perché perché hanno dei precedenti di vendita un certo tipo non si investe nelle cose nuove questo è il problema Vito dice soprattutto su un film che si vende già da solo col marchio come Diabolic se non rischi sul cast cioè dove lo fai perché effettivamente la gente lo va a vedere per il brand non è che lo va a vedere per gli attori quindi anzi si poteva veramente creare però comunque sono scelte che sicuramente noi non sappiamo cosa i ragionamenti hanno fatto forse li hanno fatti appunto per dire prendiamo gli attori più famosi di adesso così ti dico io cosa è successo secondo me allora ti faccio un esempio di Dune Dune il film Dune hanno preso degli attori famosi però il protagonista comunque un attore emergente di adesso bravissimo però viene da guadagnino viene da quindi chi ha quell'occhio è un professionista che sa che quell'attore potrebbe andare bene nel ruolo di Dune ok in Italia invece dicono il regista presenta un progetto il produttore dice oh mi devi fare recitare Marinelli che mi fa Diabolic cioè obbligano il regista a dire questi sono gli attori questi un po' diverso un sistema artistico un po' diverso poi in realtà non so come sono andati questi film però insomma dubito che cioè non si parla sicuramente di successo quindi boh se non si rischia ora così tra l'altro ti costa anche meno un attore certo un attore meno alto bravo cioè che tu sai che ha fatto di un film di un certo tipo capisci sì 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 ma ci sono perché poi anche nei film indipendenti qualche attore che viene magari dal teatro e passa al cinema ed è bravo perché si è fatto le ossa nel teatro lo trovi e io preferisco un attore teatrale che si dà al cinema perché lui deve solo cercare di di togliere un po' di ripulire perché il teatro è più è più esagerato quindi però sa già recitare piuttosto che uno che non sa recitare ma perché è bello muscoloso alto ha vinto il grande fratello ha fatto medaglia d'oro di qualche spazio devo sempre prendere queste persone qua che non sanno recitare come comunque mi spiace dirlo perché comunque veramente meravigliosa da vedere Mireille Leone non sa recitare cioè non so da dove arriva è una modella quello che è ma non è abbastanza brava non è la peggioratrice italiana perché purtroppo c'è anche di peggio c'è anche di peggio questo è un problema oppure c'è un Marinelli molto bravo ma lo obbligano a fare un ruolo che magari non è nelle sue corte capisci io non ti dico che è obbligato però ho questa sensazione ma tu sei adesso torniamo un attimo sui dischi ma come si fa un disco cioè nel senso come si fa un disco inteso un vinile come che funziona eh allora cioè tu sei stato in fabbrica oppure hai solo mandato l'ordine sei stato in fabbrica no no io sono curioso allora il vinile ha un processo artigianale completamente diverso dal cd il cd è una è una produzione che viene fatta a stampaggio molto più veloce diciamo c'è un un master che viene praticamente stampato e inciso quasi fotocopiato come si può dire questo è lei il vinile non può essere fotocopiato il vinile ha un produzione artigianale che è quella del master e il master viene inciso fisicamente su una su un un disco di eh materiale particolare che adesso è anche molto raro da trovare da quel materiale lì fanno il il disco d'acciaio d'acciaio di nickel e da quel nickel lì viene pressato quindi c'è c'è una come la stampa dei giornali di una volta no? c'è un un master che stampa e che poi è tipo una resina questa roba cosa è che è una specie di di resina che è cosa tu dici proprio la vinile è un materiale che la puntina riesce a leggere cioè è complicata non è non è solo plastica è una cosa un po' particolare e ripeto l'incisione comunque del master non è come io do un cd master alla fabbrica e la fabbrica lo stampa e lo fotocoppie il vinile deve essere riprodotto quindi c'è una specie di puntina che incide questa cosa che poi questa cosa viene stampata con le varie presse quindi la incisione che viene fatta del vinile è completamente naturale non è una cosa una copia di un'altra ecco è da lì che capisci anche la qualità del suono di tutte queste cose mi chiedono ma parti sempre da un ddp cos'è un ddp che cos'è un ddp digital si ahimè si nel senso che si parte da un master digitale quindi il discorso esatto il discorso che faceva anche Enrico stanno a rompere le palle sul vinile ma poi il vinile arriva da un digitale quindi no cioè ormai l'analogico è come si come si faceva anche perché se c'hai delle vecchie bobine le ripasso in digitale e dal digitale lo passo in analogico il passaggio in digitale è obbligato adesso perché come vi parlo a livello tecnico i dischi di una volta se tu ascolti i primi dischi di Pinflor le prime stampe suonano diversi da quelli che ci sono adesso ma perché perché sono stati incisi passando dalla bobina all'incisione quindi non c'erano i computer quindi la bobina si portava proprio fisicamente analogicamente quindi c'era più dinamica grazie e c'era anche l'impianto diverso chi ascoltava aveva delle casse diverse gli amplificatori adesso è tutto diverso tutto più compresso l'audio quindi l'audio è molto compresso significa che è molto più non ci sono come si può dire non ci fa rispirare il suono lo si comprime per avere il volume alto per le cuffie e gli auricolari da computer eccetera anche perché se tu ascolti lo stesso master in un computer dici ma che questa cosa qua l'ho notata perché spesso io ascolto quelle cuffie a volte passo alle casse e non sento niente ci sono dei volumi che dico ma che strano e questa roba non la capivo ora messa in relazione a quello che hai detto la capisco molto meglio visto che mi hai raccontato un po' come funziona questi ti racconto un aneddoto invece su come si fanno le VHS perché io nella mia carriera di giovane che faceva qualsiasi lavoro quando ero piccolino ho lavorato per un'azienda fuori Milano che faceva le videocassette e sai che c'è stata un'ondata enorme in edicola di videocassette c'è stato degli anni in cui uscivano tonnellate di film con le riviste senza rivista e c'era tanto lavoro per questo io andavo da ragazzino in questo posto che era un hangar gigante con centinaia di videoregistratori tutti uno sopra l'altro erano muri di videoregistratori e il mio lavoro consisteva nel prendere le videocassette vuote infilarle velocissimo come se fosse una sorta di maratona di staffetta scusa di corsa io insieme ad altri ragazzi riempivamo velocissime le pareti tac 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 finito suonava la sirena dovevamo toglierci andare in un'altra stanza facciamo altre attività e poi partiva la registrazione di tutti che erano tutti collegati con dei fili una roba che tu dici ah ma veramente era una roba rudimentale ma era così però fisicamente le dovevi fare le dovevi mettere dentro l'unica cosa che era tutta automatizzata era l'eject cioè l'espulsione della cassetta che era fatta dal computer quindi tutti i videoregistratori buttavano fuori insieme le videocassette noi velocemente quelle registrate le facciamo così tac 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 le prendevamo e facevamo delle pigne altissime al punto che alcuni erano bravissime e tipo gioculieri portavano pigne di 20 cassette ogni tanto cadevano e si spaccavano quelle erano messe nel conto del incidenti sul percorso e si facevano così non solo non solo nelle pause in cui venivano registrati i film che erano registrati alla velocità uno a uno quindi se duravano un'ora noi prendevamo delle vecchie videocassette di recupero e le pulivamo per poi riutilizzarle da vendere come nuove bello bello una cosa assurda se ci pensi però mi pagavano tantissimo all'epoca veramente tanto pensa all'occasione che ti sei perso pensaci un atti in che senso poter mettere come trad put una immagine di un cazzo ma io non avevo accesso a cosa veniva registrato no ma magari c'è potevi duplicare un master con quello a god in effetti in effetti magari alla fine dei titoli di coda no potevo l'avrei potuto questo sarebbe stato un atto vandalico tipo prendere un porno e sostituire una cassetta di che ne so una roba per bambini sai proprio la cattiveria vera oppure vabbè a parte il licenziamento successivo ma non avrebbero mai saputo che ero io no a parte che non avrebbero mai saputo o tu ti immagini tipo la famiglia di mandavi la walt disney esatto quella cosa lì secondo me finiva sui giornali e andavo veniva venivo sicuramente scoperto e arrestato sicuramente però pensa che figata comunque sono mi fa ridere perché poi all'epoca io per esempio non sono un collezionista da sempre io compravo quello che mi piaceva anche quando ho aperto bloodbusters compravo ho comprato dei film me li tenevo però non è che avessi l'ossessione anche perché era molto costoso essere collezionista di queste cose in passato cioè mi ricordo che le vhs costavano anche 50.000 lire 60.000 lire erano carissime i cd erano carissimi quindi insomma o eri veramente ricco o non mangiavi per fare quella cosa lì per cui dimmi dimmi anche Enrico parlava del fatto che Enrico Silvestri parlava del fatto che la musica venne divulgata di più eccetera in realtà posso dire una cosa quando la musica costava di più la gente prima di comprare un prodotto si informava molto di più però non aveva la possibilità molto facilmente di ascoltarlo quello è però io ti posso dire che nel mio negozio di dischi faceva ascoltare i cd prima di acquistarlo io i dischi li ascoltavo c'era un negozio qua a Milano che si chiama Zabrisky Point di musica punk hardcore molto famoso e lui ce li metteva su se volevamo i dischi sì però quello che dico io adesso che c'è tanta musica uno magari non si sofferma neanche ad ascoltarlo effettivamente lo sfoglia come un giornale dice ok questo mi piace questo non mi piace in realtà una volta era un po' più difficile avere un foto ciao Davide quando si facevano degli sbagli e quando aveva un bel disco cioè era un po' una cosa diversa certo un approccio diverso ascolta Stefano io sono in chiusura adesso se voglia di dire qualcosa finale ci siamo dimenticati qualcosa beh allora vorrei dirvi che in quest'autobre esce la reedizione della della colonna sonora di Sospira questa è la versione box e vorrei spiegarvi e spiegare il fatto che è stata completamente risuonata la colonna sonora quindi chi si compra questa colonna sonora compra non compra la vecchia colonna sonora ma compra una nuova versione della colonna sonora risuonata completamente nuova quindi chi ha già Sospira se prende questa è una cosa completamente nuova quindi risuonata in versione prog rock molto molto bella secondo me anzi ha mantenuto l'inquietudine è una cosa interessante e poi niente le nuove uscite saranno per dicembre adesso dopo questo aspettiamo un attimino avremo la colonna sonora di Deliria di Soavi figata eh sì molto bello secondo me come film e poi niente vi invito a iscrivervi al nostro canale Twitch che è Rustblade Rustblade ah sì 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 mi fate uno shout out anzi lo faccio tu sei collegato con col tuo account sì 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 ok allora te lo faccio io Rustblade allora ragazzi Stefano ah non sono collegato online cioè non sono sì allora me lo devi dire esattamente come è scritto che funziona lo stesso Rust Blade Rustblade Records con la S finale sì tutto con la R maiuscola però quello penso che non c'entri vediamo se funziona allora seguiti il canale di Stefano perché comunque ha intenzione in futuro di portare un po' di contenuti anche in live penso anche DJ set così così musica non sta funzionando non sta funzionando no non so perché oh strano perché sono tre su ma non sta funzionando facciamo così che faccio faccio prima lo cerco e lo incollo io incopio il link e dicevo cosa cosa vorresti portare a parte che poi quando uno è dentro a Twitch fa un po' quello che gli pare perché diventa un po' una seconda casa diciamo che io la mia idea era quella di presentare i nostri prodotti praticamente specifica cioè facendo comunque una storia praticamente su quello che su quello che era il disco la produzione che c'è stata specifica cioè facendo facendo dando la possibilità culturalmente di avere delle nozioni in più su quello che si acquista questa è la prima parte poi c'è la mia la parte mia di di colore sonore che vorrei insomma approfondire far ascoltare alcune musiche che insomma sono importanti ecco e poi vabbè c'è la parte del DJ set che mi piacerebbe far ballare con l'horror diciamo eh sì no sarebbe bellissimo secondo me perché come dicevo anche quando ero in live che seguivi così secondo me qua su Twitch c'è una bella mentalità cioè nel senso che più siamo meglio è cioè non è una una gara chi cade così l'altro può continuare secondo me si deve creare un bel giro di persone che fanno cose poi se sono anche diverse tra loro è ancora meglio secondo me nel senso che comunque tu parlerai di musica quindi ci sta faremo altre cose insieme io ti seguirò sicuramente perché sono curioso poi potrai anche parlare appunto dei tuoi prodotti anche in modo più dettagliato no? più sì adesso faccio un primo esperimento questa settimana ecco qua ti suggeriscono visto che più o meno il tempo ce l'hai vediamo se riesci per Halloween potresti fare un DJ set non proprio il giorno di Halloween perché non ce la faccio perché ho tanti impegni anch'io però sicuramente prenderò un giorno di ottobre per fare il DJ set di Halloween questo sicuramente figata stavo dicendo una cosa che mi è sfuggita vabbè mi ricordo comunque anche per chi diciamo vorrebbe avere il documentario di Zio Tibia possiamo dire che state lavorando per creare comunque trovare il modo per farlo rimetterlo sul mercato insomma abbiamo ancora tante richieste se c'è richieste è assurdo non rispondere vogliamo vogliamo farlo con una copertina diversa stiamo un po' valutando la cosa fra un po' avrete una news su questo stavo dicendo che praticamente il mio primo esperimento su Twitch sarà quello di farvi vedere la serata dedicata che abbiamo fatto dedicato a Studio Tibia ovviamente io che intervengo per capire un attimino come funziona Twitch perché io devo ancora un attimo capire la cosa e poi niente ho già in mente di fare uno special su Il Gatto a Nove Code di Ennio Morricone per parlare della musica di Ennio Morricone in questo film che è molto particolare molto jazz ha delle componenti dodecafoniche interessanti ecco per capire anche meglio il film e per capire anche meglio il genere giallo diciamo sì che è ancora più c'è un genere ancora più dimenticato dell'horror sicuramente il giallo in realtà vorrei farti capire che il genere giallo all'estero c'è ed è come se c'è poi c'è c'è anche un genere giallo che comunque è abbastanza horror nel senso raggiunge anche dei picchi di violenza parlo anche del vecchio cinema giallo quello di Bava così che era un giallo molto cattivo beh non so se avete mai visto Torso ho capito non l'ho visto perché lo sto cercando tra l'altro mi sembra che ci sia un'edizione recente che sta uscendo del film ho visto un'edizione figa molto tipo da collezione basta guardare il catalogo Arro dicono tu sei un compratore di prodotti Arro sì 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 mi piacciono molto i prodotti Arro perché comunque rendono giustizia certi film anche i film stessi di Arro Argento li ha oppure la Midnight Factory sta collaborando con loro perché hanno dei master che hanno fatto di film molto belli e quindi a sto punto inutile fare un nuovo master se loro l'hanno fatto l'idea mia comunque è quella di avere anche noi un marchio perché noi siamo esportati nella stessa distribuzione negli Stati Uniti dell'Arro Video e questo è il motivo perché vorrei cercare di fare di distribuire dei film italiani di un certo tipo ecco ci sono dei film underground italiani notevolissimi certo certo poi dopo ti chiedo maggiori informazioni in privato che sono curioso l'unico problema che ti ho detto è l'ego dei registi in Italia che non ci siamo attendono dico la verità è così ragazzi ragazzi a partire da una base il bello è che poi la gente si stufa di avere a che fare con questo tipo di comportamento lo vedono perché mollano certi progetti eppure nonostante ciò non lo capiscono che ci vuole un po' di umiltà bisogna cioè da parte dal mio punto di vista come produttore distributore se non sei una persona umile non riusciamo a delogare proprio te cioè non riusciamo a capirci perché ti fai i cartelli ti fai i viaggi i tuoi e ti entri i tuoi questo è lo che dico cioè va bene allora io ti ti ringrazio tantissimo di essere stato qua con me ti rinviterò anche in una forma magari più meno ufficiale così anche più da cazzeggio perché comunque mi piace l'idea anche di avere ospitate così quindi dove magari possiamo parlare d'altro non necessariamente di dischi di quello che vendi eccetera fammi sapere assolutamente che ti aiuto anche a promuovere un pochino le tue prime stream ci sarò sicuramente a supportarti ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla live e quelli che hanno supportato oggi così però grazie mille comunque a quelli che hanno supportato e facciamo un ride visto che le ho viste online a loop genetico e ci hanno fatto un ride prima quindi facciamo il contro ride e questo questo martedì probabilmente non sarò in live quindi cercherò di recuperare in un altro momento noi qua ci vediamo tutti i martedì venerdì e domenica alle 5 come al solito grazie a tutti quanti grazie Stefano grazie di tutto questi prodotti che Stefano mi raccomando è una bomba secondo me grazie no io posso lasciarti anche del tempo se vuoi degli elogi per me per il mio canale io figurati se mi ritraggo sei testimone del fatto che io ho partecipato parecchio a certi di nel tuo canale grazie si parla di cinema in una maniera diversa è questo è questo che mi piace del Gons perché Gons va un po' più all'interno del cinema non guarda solo la facciata ecco non guarda solo cosa i produttori gli spingono cioè cerca di entrare un po' più in profondità e questa è la cosa importante perché a noi interessa quello i consigli che mi ha dato il Gons sui film posso dire grazie Alca sono stati perfetti cioè io ho visto grazie Giorgio ho visto come to daddy ed effettivamente ha un occhio di un certo tipo si poi ti dico chi mi conosce meglio poi scoprirà che io do consigli anche di film trash per esempio io amo tantissimo certi film trash perché alcuni film trash sono interessantissimi per esempio quello della troma sulla guerra come si chiama c'è uno fantastico cazzo adesso vedi però street trash cioè io amo tutto il cinema anche quello un po' più rudimentale eccetera l'importante è che che ci sia della passione o un messaggio un messaggio politico un messaggio emotivo cioè che ci sia dentro qualcosa quindi allora questo canale secondo me c'è molto cuore ecco è quello come tutte le cose di cuore trasmettono una cosa diversa e poi non è un canale ultra nerd nel quale siccome io stesso non sono una persona che ha visto tutti i film horror anzi ho tantissimi film ancora da vedere non è un canale dove arrivi ti senti tipo ah no io non ne so niente cioè qui chiunque può starci anche uno che ha iniziato ieri a vedere i film non c'è quella quella gara quella quella insistenza nel si parla proprio dei film di ciò che raccontano quindi tutti possono tutti possono prendere un film guardarlo con attenzione e parlarne perché se lo fanno invece che giudicarlo lo guardano e basta lo guardano lo osservano lo cercano di capirlo chiunque può in qualche maniera portare un commento interessante su un film ti ringrazio tantissimo grazie ragazzi grazie a tutti stavo dicendo seguitemi perché cercherò comunque di farvi vedere i prodotti che mi ha mandato sui social così farò anche la recensione di Zio Tibia e niente ci vediamo alla prossima faccio partire il ride scusami per loop genetico che adesso stanno giocando a Call of Duty però ragazzi abbiate pietà di loro vabbè sono bravi ragazzi tra l'altro ci hanno fatto il ride prima quindi sono strafelice di questa cosa ci sta ci sta grazie a tutti grazie mille per ciao ciao a tutti per tutto ciao ciao